benvenuti buonasera 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 a tutti come state tesori eccoci qua vai tranquilla martina vai tranquilla martina che intanto do il benvenuto aspettiamo anche giallucone e partiamo con questa super live su satoshi con eccoci eccoci pronti gialluca ciao kng ciao martina appunto ciao wolf lion versus x 98 ci teneva un attimo a farci sapere che stava togliendo il segui perché non me lo merito però ecco se sei ancora in chat dice come mai se vuoi dato che hai avuto questa buona volontà di venire a dirmelo dimmi anche come mai così magari posso migliorarmi anche se comunque credo che ci dormirò lo stesso la notte nonostante questa tua notizia che ci hai comunicato in questo momento però magari può essere utile sapere come mai tu pensi che io non mi merito il segui insomma ne possiamo parlare allora quanti di voi conoscono satoshi con quanti di voi amano satoshi di satoshi con quanti di voi sono curiosi su satoshi con perché magari lo conoscono ma non l'hanno approfondito quanti lo hanno sentito nominare quanti hanno visto qualcosa a sprazzi che sicuramente non è il modo migliore perché ovviamente è un autore abbastanza particolare le sue cose sono molto particolari quindi sono sicuramente opere sia i manga che i prodotti di animazioni che meritano tanto approfondimento quindi quello è quello che consiglio sempre di approfondire però ecco quanti di voi conoscono satoshi con e sono appassionati del suo cinema perché effettivamente mi sto chiedendo da tempo ciao cosmico come stai tesoro ciao gianmarco benvenuti mi sto chiedendo da tempo quanto effettivamente sia il riscontro di pubblico che ha satoshi con in italia anche in giappone si potrebbe dire perché ovviamente purtroppo uno potrebbe pensare che in giappone sia famosissimo ma in realtà no cioè nel senso è comunque un autore di nicchia molto di nicchia anche lì e quindi in ogni caso se voi chiedete a delle persone che è successo aspetta che ho sbagliato ho messo la schermata ecco adesso mi ero un attimo bloccato da e quindi anche se lo chiedete ai giapponesi giovani giapponesi di oggi non molti lo sapranno però adesso ci facciamo dire invece quante ne sa il nostro Gianluca e anche Martini è arrivata a posto a posto non li ho sentiti non vorrei che non funzionassero le cuffie ma adesso capiamo parla infatti non ti sento aspetta aspetta devo avere le cuffie qui spente forse proviamo vediamo 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 perché non ci sono sono aspetta 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 devo provare qui da streamer scusate ragazzi allora audio microfono perché non c'è che è successo che cazzo c'è allora teoricamente dovrebbero andare riproviamo cuffie nuove scusate ragazzi c'è un po di prove tecniche che cazzo ora provate a collegare il filo eh non vorrei che si fossero scaricati di nuovo ma dopo tre giorni non credo non mi causate 26 ore riproviamo ma che è perché non aspetta 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 provo un po a parlare Gianlu provo a parlare provo a parlare ah so coglione io vai vai ora ti sento faccio avventare anche Martina eccoci io ti sentivo comunque ti sentivi ciao ciao ero io che non sentivo perché avevo stavo provando tutte facendo tutte le prove possibili del mondo ma in realtà dovevo solamente cambiare la l'ingresso del computer gente dai potenti mezzi potenti mezzi no ma oggi sono un po rintronato ve lo dico perché ho fatto la prova audiometrica per l'acufene e praticamente ti tengono tipo 40 minuti a martellarti con un suono pazzesco sembra industrial metal ma all'ennesima potenza sembra veramente una b side dell'istruzende noi bauten e quindi insomma così come state ragazzuoli bene bene grazie carica non vedevo l'ora tanta roba ma io voglio sapere prima una cosa che non c'entra molto però voglio sapere da Gianluca come è stato Cannes e come sono stati i corti ghibli soprattutto Cannes è stato pazzesco c'è un tour di forza assurdo infatti mi sto ancora riprendendo in realtà ci ho avuto un paio di giorni veramente K.O. che è sempre un frullatore totale però tanta roba devo dire ci ho visto dei film pazzeschi e contentissimo tra l'altro che abbia vinto Anora quindi Sean Baker che è stato il mio preferito del festival corti ghibli bene bene devo dire molto belli c'è avuto anche questo simpatico bellissimo è qui l'impedia pazzeschi ma anche perché poi non mi ricordavo che erano in realtà tipo 12 13 quelli che venivano proiettati in rotazione del museo io sapendo che ne venivano proiettati 4 4 la Cannes io avevo già visto uno tra l'altro quando ero stato là al museo di Mitaka a Tokyo che era quello del ragnetto con la bolla d'ossigeno che si immergeva e in realtà erano 4 tutti diversi quindi sono contentissimo di aver visto tutti e quattro tra l'altro il buon gurone Miyazaki che ha fatto una bella figura infatti è stata anche una bella testimonianza insomma di un testimone che alla fine pare che sia raccogliendo veramente lui come erede dello studio cosa che era comunque abbastanza in discussione soprattutto a livello amministrativo secondo me più che artistico comunque è stato bellissimo il messaggio di di Ayao che ho visto poi ripreso è riuscito a svolterlo anche nel messaggio di due minuti povero due ore stupendo stupendo ciao Sara sì 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 ora se sei amante di con ti soddisferemo non ti preoccupare ciao Tasso ciao Yusharuru Cosmico Comics benvenuti a tutti benvenuti a tutti ragazzuoli allora io partirei da una domanda intanto per tutti e due voi che come avete conosciuto Satoshi Kon se ve lo ricordate ovviamente vabbè ma non avete le difficoltà mie io ormai si parla di ere geologiche fa per voi sicuramente più giovani è diverso chi vuole partire vai Martina vai vai ma io semplicemente perché amando Miyazaki e i film di Miyazaki poi vabbè dello studio Ghibli in generale ma lo sapete io sono nella sponda più di Miyazaki diciamo che quando inizia a fare qualche ricerca su film anime che sono stati importanti ecco è abbastanza improbabile non arrivare al nome di Satoshi Kon quindi così c'è praticamente di riflesso grazie a Miyazaki il primo film che hai visto di Kon perfect blue ok e tra l'altro questa è stata l'occasione per recuperare paranoia agent ad esempio che non avevo mai visto e ogni volta dicevo poi lo vedo poi lo vedo poi lo vedo e finalmente l'ho visto poi tu mi conosci cioè dovete sapere che è uno strano rapporto con gli anime con le serie in generale ultimamente con le cose da guardare no guarda ti dico cose da guardare in generale pure film infatti se qualcuno ha un metodo me lo dica vi prego perché io guardavo un botto di film serie tv anime quant'altro ora però il mio problema è che riesco solo a leggere cioè qualsiasi cosa mi metto a guardare è davvero difficile che io riesca a farlo tutta tirata ma anche solamente un film su questo sì devo mettere in pausa fare altro poi rimetterlo mi dà particolarmente fastidio però al cinema non ho questa difficoltà no perché mi impongo cioè non tiro fuori di certo il telefono al cinema però comunque io noto che la mia mente pensa che vorrebbe avere degli input in quel momento mentre sto guardando il film e non riguarda assolutamente il fatto se ciò che sto vedendo mi piaccia oppure no 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 chiaro chiaro è asturro però vabbè al di là di quello la puntata lo dico come così cosa interessante mauri la voleva fare qualche settimana fa ma li faccio no guarda però da dover finire delle cose se ti va di posticiparla perché io sono fatta così se mi dici facciamo una live su questo cioè io ho un pdf di dieci pagine praticamente meno male qualcuno ti preparato in questa live mi sono scritta faccio un'altra premessa poi Gianluca ti faccio parlare perdonami io non ho guardato tipo interviste messaggi simbolismi dietro cioè quello che dirò praticamente sono le cose che ho visto e che ho riguardato appunto quelle che non ricorrevo benissimo ho scritto proprio quello che pensavo quindi se dico cazzate cazzate sono proprio frutto della mia fantasia non sono cazzate plagiati cazzate oneste esatto esatto arrivano da me cazzate di cuore va benissimo esatto e te Gianluca come l'hai conosciuto invece? io pure comunque sono d'accordo con Marti sul discorso della concentrazione io lo sposto sul focus che ripeto spesso qua in live ve l'ho già detto tante volte del fatto che esce troppa roba ragazzi eh sì 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 veramente cioè tra serie tv cinema fumetti è un periodo sarà da inizio anno boh non lo so che sono abbastanza bombardato però cioè veramente mi sento sopraffatto cioè non riesco a stare appresso a tutto vorrei quindi poi ditemi se è vero anche per voi questo cioè che noi da insiders comunque tra virgolette sentiamo quasi il peso di dover essere sempre aggiornatissimi su tutto quello che esce io lo sento molto questo eh poi non è detto che riesco a farlo sempre però lo sento cioè per fortuna al cinema riesco a estragnarmi però tipo quando guardo una serie quando leggo un fumetto cioè mi capita spessissimo di leggere qualcosa però di non riuscire a godermelo perché penso madonna cioè per me devo guardare pure quella roba là madonna per uscire pure quest'altro di cui dovrei parlare cioè veramente sono un attimo pieno quindi sono contento tra l'altro di una live di questo tipo qua che mi ha spinto a riguardare della roba a ripensare ad alcune cose perché altre cose che ripeto come un mantra non abbiamo mai tempo per ripensare a cose passate a riguardare cose a rivalutare cose che è un peccato perché alla fine cioè magari riguardando cose che non guardi da un sacco ripensando a cose a cui non pensi da tanto tempo ti scatenano nuove cose nuove sensazioni cioè diversi film di con li ho riguardati prima di questa live per ripassare un pochino anche banalmente il fatto che comunque noi cresciamo maturiamo e quindi per forza di cose tutto quello che vediamo come i film anche quello che leggiamo in qualche modo secondo me lo leggiamo e lo vediamo in maniera diversa a ogni periodo della nostra vita già solo per quello ma anch'io non riesco mai a rileggere quasi mai a rileggere a meno che non debba fare un articolo o una recensione apposita cioè mi impongo di farlo con quelle occasioni lì altrimenti che io riesca a rileggere qualcosa libero da costrizioni tra virgolette lavorative è quasi impossibile si e io con infatti l'ho approcciato che stavo al liceo io al liceo mi facevo queste maratone folli di registi di tematiche quindi mi recuperavo film su film in maniera folle che ne so tutta la New Hollywood, tutto il cinema muto facevo queste maratone pazze di tre film al giorno cosa assurda e mentre pure io mi stavo recuperando tutta la filmografia dello studio Ghibli quando lo studio Ghibli ancora non era esploso aveva vinto l'Oscar se non sbaglio per La Città Incantata quindi chiaramente si cominciava a sentire di più dello studio Ghibli anche nel pubblico mainstream e da là poi sono finito per mi ricordo se erano degli articoli che parlavano di Conn o comunque il nesso quando si parla di anime, di film di animazione giapponese di un certo tenore insomma che sono quelli non nomi di solito apri i post in the shell chino esatto io pure ho cominciato con Perfect Blue e sono rimasto anichilito perché c'è stato qualcosa che mi ha fatto dire ah ok quindi pure cioè l'animazione giapponese può essere anche questa roba qua che comunque essendo io prima di tutto appassionato di cinema vedere così tanti echi della cinematografia dal vero in un film animato era un qualcosa che comunque non avevo ritrovato nemmeno nelle opere dello studio Ghibli no anzi atmosfere molto sognanti qua invece c'è una concretezza che si unisce però al sogno che mi ha veramente stordito e da là poi mi sono recuperato tutte quante le altre opere diciamo che è diventato uno dei registi che apprezzo di più in assoluto quindi tanta roba tanta roba beh ci accomuna questa cosa anche io anche io Perfect Blue come primo film anche se l'ho scoperto in modo diverso perché io mi ricordo che vedi il trailer se non ricordo male nelle VHS Yamato Video all'epoca che lo pubblicarono loro e ero già abbastanza incuriosito dalla tematica delle idol è una cosa che mi ha sempre incuriosito da quando cominciai a leggere qualche articolo nelle varie fanzine dell'epoca di questo mondo molto di questa dicotomia questo bene e male luce e oscurità che mi ha sempre affascinato io infatti già all'epoca leggevo anche le biografie dei serial killer queste cose dove cercavo sempre di andare portare un po' nel profondo della personalità e delle vite di questi personaggi per capire come si arrivasse a certe cose e la stessa cosa nel mondo delle idol mi affascinava il fatto che comunque ci fossero questi fan abbastanza fuori dagli schemi che comunque si spingevano anche parecchio oltre poi il fatto che loro le facessero vivere un po' come delle bamboline pronte a soddisfare gli spettatori senza mai far vedere troppo di sé e questa cosa mi affascinò subito tantissimo e quindi poi vedi Perfect Blue e da lì tutti gli altri film che uscirono poi e anche la serie Paranoia Agent che secondo me poi è una delle serie migliori in generale dell'animazione giapponese c'è un... innamorato beh c'è talmente tanta roba dentro c'è tutto vabbè quello che... potremmo fare una live per ogni episodio esatto per ogni episodio letteralmente per ogni episodio sì 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 assolutamente che poi io su Prime Video tra l'altro ho visto l'hanno messa non so se è da poco oppure su Prime Video su Anime Generation c'è quella cosa che ti devi fare l'account in più però c'è sì no prima era gratuita però poi l'hanno l'hanno messa su Anime Generation fortunatamente io c'ho infatti il Blu-ray di Paranoia Agent e se no non me la sarei neanche rivista è che col cavolo che gli vado a spendere i soldi ora per quella roba lì e invece Paprika è su Netflix se non ricordo male gli altri non ci sono però ah tra l'altro sì come dice Gianmarco mi sono presa anche il romanzo voi l'avete letto il romanzo di Perfect Blue? io l'avevo preso ma poi non l'ho più letto in realtà ok quindi c'è però ce l'ho lì prima o poi lo farò sono curiosa anche se c'è non c'entra particolarmente no però sono curiosa di leggere vedere tutte le cose un po' diverse quant'altro ho visto il tuo video di Perfect Blue in cui hai citato anche il romanzo e quant'altro prima o poi lo farò non è una cosa immediatissima che ti dico domani lo leggo però non è neanche indispensabile nel senso poi per non è indispensabile per capire meglio il film né nient'altro è una curiosità appunto da fan di Conne che uno si può togliere è anche un libro che si legge abbastanza velocemente non è di quei libri pesanti complicati né nient'altro anche perché appunto è molto diverso dal film soprattutto per quanto riguarda tutta la parte onirica che lì praticamente non c'è è un libro molto più ancorato alla realtà terra terra di questo almeno fino al finale il finale anzi il finale va quasi sul molto fantastico diventa quasi un un mostro da da videogioco lui praticamente un super uomo con dei poteri incredibili senza spoilerare però però per il resto invece è molto più semplicemente la storia di questo stalker di questo fan completamente ossessionato che cerca in tutti i modi di mantenere quella che secondo la sua visione è la purezza di Mima Kirigo è la la protagonista appunto per avere una cosa in più ci sta sapendo sapendo Conn come si diverte a rielaborare quando ecco i soggetti le sceneggiature non sono sue sono curioso di vedere come come abbia cambiato una materia di quel tipo quindi si ti dico praticamente è il soggetto poi per il resto è tutto è tutto con completamente con ok si 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 è come se avesse preso le prime tre righe del romanzo e poi è andato totalmente per fatti suoi basta non l'ha neanche letto ha letto la quarta di copertina probabilmente no no lui lui dice che non l'ha letto lui ha saputo che non l'ha letto ok l'ho detto così non so se forse lo diceva il video l'ho detto io così morta no no lui ha saputo un'operazione ai ragazzi e l'aerone voi come vivrete il titolo è basta infatti le scavotagini io ho letto anche quello alla fine quello quello che c'è in comune è la tematica della crescita ma la tematica della crescita si può riscontrare nel 99,9% delle opere in generale quindi talmente universale i romanzi di formazione è esattamente lo Sturmundrang lo Sturmundrang esatto si 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 lo ricorre da scuola si 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 e però appunto si interessante sicuramente no lui non lo lesse perché praticamente lui andò così che dovevano fare un film dal vivo inizialmente su questa su questo soggetto del romanzo però poi mi sembra che ci fu un terremoto che distrusse una maggior parte dei teatri di posa della zona di Tokyo e quindi dissero vabbè allora a questo punto facciamo un film d'animazione venne affidato a Con Con guardò la sceneggiatura e disse no va bene però si rifà completamente si deve rifare del tutto completamente quindi lui non l'ha letto effettivamente da quello che dice il romanzo originale ha preso la sceneggiatura ha tenuto insomma alcuni protagonisti quasi tutti il soggetto iniziale poi ha cambiato tutto mettendoci quello che era Con quello che era Con assolutamente fantastico prima di iniziare a parlare di Perfect Blue l'ultima domanda personale nel senso il film preferito invece qual è? c'è con il levo Paranoia Agent si facciamo film dai se è Paranoia Agent dillo comunque tra le sue opere però dici anche il film allora tra tutto è Paranoia Agent però se ti devo dire un film tra Perfect Blue e Millennium Actress non so decidermi ok però ti posso dire quello che mi è piaciuto meno si? che è Tokyo Godfathers ok Gianluca? ok è difficilissimo difficilissimo allora pure io credo che Paranoia Agent sia in assoluto la somma della sua poetica della sua del suo stile cioè c'è veramente tutto con in Paranoia Agent e cioè se qualcuno dovesse avere un succo di con è quello io vabbè Perfect Blue essendo la prima opera con cui mi sono approcciato a a con avendolo rivisto recentemente al cinema durante la la ridistribuzione io forse vi dico Perfect Blue anche se come come tematiche come metatestualità come omaggio al cinema assurdo io Millennium Actress ovviamente ho una una scufia particolare quindi è tra Millennium Actress e Perfect Blue ti dico Perfect Blue perché comunque il primo genito alla fine è quella a cui si vuole più bene ma vedo che anche in chat la maggior parte delle persone che stanno dicendo è Millennium Actress anche per loro non me l'aspettavo effettivamente forse per me è quello che mi è piaciuto un po' meno Millennium Actress a livello visivo a livello visivo è una roba eccezionale penso che forse insieme a Paprika il più bello visivamente forse anche più bello è che ci sono delle scene incredibili quella della quando c'è tutto lo scenario tipicamente da Ukiyo-e con un vecchio dipinto nipponico con lei che che va sulla carrozza quello è spettacolare però come film in sé io credo che Tokyo Godfathers sia il mio preferito stranamente romanticone sì non lo sento mai nominare anzi come avete detto anche voi come ha detto Martina è forse quello meno preferito di solito invece a me piace veramente tanto come come storia e vabbè ma poi tutto il resto insomma e anche Perfect Blue è un film che amo poi è difficile sceglierne uno perché sono tutti belli in qualche modo e sono tutti anche un po' collegati dalla stessa poetica dalla stessa concezione del cinema quindi secondo me è più un divertimento un giochino che facciamo dire qual è il nostro preferito anche perché sono sì infatti veramente sono tutti di un livello altissimo cioè stiamo parlando comunque di scegliere il capolavorissimo tra film certo comunque di uno spessore narrativo stilistico allucinante chiaro 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 sì 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 beh certo no Cosmico ok quello sì è confusionario anche la parata di Impaprica come può essere confusionario in generale in cinema di Cohen ma è proprio il bello è che completamente fuori di testa sì sì ma è una cosa bella che va vista e rivista secondo me capito la sua roba sì perché vedi sempre dettagli diversi cose nuove sì cioè quella parata boh ti lascia proprio completamente interdetto sì sì secondo me cioè non sei sover paura se ridere se dire che figata vorrei essere lì pure io esatto se spegnere la televisione perché boh pensi che da un momento all'altro tu venga inglobato all'interno della tv cioè davvero è è delirante secondo me no ma veramente c'è il senso di straniamento totale che ti capita quando stai stai sognando cioè mono per niente è la tematica di quel film là come di tantissima tantissime sue sulle pellicole però veramente però quel senso un po' di disagio di fascinazione dei sogni no cioè stai là ma che cazzo sto vedendo no ma poi anche l'inquietudine perché ci sono comunque quei personaggi che di base sono i personaggi tutti i kawaii tutti i moi tutti i dolcini dell'immaginario giapponese delle bambole anche le bambole tornano spesso nel Satoshikon ecco per esempio voglio delle mascotte così che però assumono dei tratti super inquietanti veramente inquietanti bello bello vabbè ci arriviamo guarda ma se qualcuno se qualcuno dovesse dirmi vorrei capire chi è Satoshikon in un minuto e mezzo gli direi guarda l'opening di Paranoia Agent quello è vero così non guarda più altro un minuto e mezzo guardi quello e capisci già che cosa a che cosa ti stai approcciando perché davvero pure quella opening però appunto poi ci arriveremo a parlare meglio siccome ti entra in testa poi l'opening vabbè incredibile vabbè ma partiamo da da Perfect Blue dai a questo punto direi di andare in ordine cronologico ma io dico solo una cosa scusate io non mi ricordo i nomi di quasi nessuno ho un problema con i nomi quindi c'ho aperto qua di fianco le schede con i personaggi di ogni opera quindi se vedete che faccio così è quello se ci metto un attimo a capire di chi state parlando se dite il nome per sto motivo no non mi ricordo i nomi di personaggi ma manco io lo dico però mi sono apprezzata non ti preoccupare ma anche io ho tutte le schede esatto no mi ricordo Mima ma perché l'ho vista al cinema un'altra volta me lo ricordo bene è anche facile da ricordarsi e Paprika esatto esatto tra l'altro devo assolutamente prendere la figure di Mima che è uscita da poco non so se l'avete vista pensa che io vorrei fare il cosplay da un botto e ancora non l'ho fatto è anche abbastanza sempre secondo me il cosplay no infatti è una cazzata però il mio problema è che ogni volta rimando le cose alla fine adesso dico lo farò e sicuro tanto non lo farò comunque fatti il cosplay in combinazione te fai Mima e te Chirione fai l'assistente quando ci traveste da Mima dai io lo voglio adesso io adesso lo voglio ci possiamo pensare prossima fiera poi si fa anche l'inseguimento per le vie di Lucca comunque Perfect Blue appunto come abbiamo detto tratto da un romanzo di Yoshikazu Takeuchi e prima opera di Con come regista completo insomma parla di cosa parla questa è un'impresa va bene però parla di una ragazza Mima Kirigoe che fa parte di un gruppo di idol che per chi non lo sapesse sono questi cantanti giapponesi che però spesso si occupano anche di altro quindi fanno da modelle posano per giornali vari musica cinema serie tv fanno un po' di tutto quello che riguarda il mondo dell'intrattenimento e solitamente sono anche molto giovani cosa comporta il fatto che siano giovani oltre giustamente ad accendere un po' la passione anche dei maschi perché comunque sono belle ragazze bei fisici affascinanti che comunque lì viene cuscita addosso questa aurea un pochino impersonale dove diventano dei personaggi puramente dei personaggi senza che ci sia modo di andare nel loro privato cosa che invece magari per altri tipi di artisti pop rock può capitare insomma che si aprono al pubblico le idol la loro caratteristica principale o almeno quella era fino a qualche tempo fa ora non so se sia un po' aperta la cosa ma non credo anche leggendo Hoshinoko hanno quest'aura impenetrabile cioè la loro vita privata per essere ben viste ben volute dai fan deve rimanere totalmente privata appunto non devono far sapere se hanno dei fidanzati o quant'altro anche perché assolutamente non voglio generalizzare ma spesso il fan delle idol è anche magari un uomo che non ha tantissime interazioni sociali che magari si crea dei castelli di carta proprio fantasticando su queste ragazze cosa succede però che a un certo punto c'è questa sembra che ci sia qualcuno che la segue che scrive di lei su un blog tra l'altro poi c'è tutta la tematica che secondo me è una delle principali del rapporto con la tecnologia di un film ricordiamo del 97 dove internet esisteva ma era veramente embrionale e quindi scopre che c'è questo personaggio che praticamente la stalkerizza da lì in poi si aprono diversi scenari prima di tutto a livello personale perché lei vorrebbe fare un balzo avanti con la sua carriera quindi lasciare il mondo della musica per addentrarsi in quello del cinema e anche su questo per esempio con ci mette molto realismo nel mostrarci com'è questo mondo del cinema nipponico soprattutto sul secondo me sul fatto del nepotismo del nonnismo del fatto che è molto molto difficile entrarci che chi è già lì arrivato comunque in qualche modo si sente minacciato appena qualcuno di giovane carino arriva e potrebbe prendergli il posto e che quindi comunque fa pressioni per esempio nel romanzo questa cosa è più accentuata ancora di più con un altro personaggio il personaggio di un'altra idol e quindi c'è questo odio incredibile che si sviluppa e poi da una parte c'è anche questa diramazione onirica che comincia a prendere anche lo spettatore perché da da quel momento in poi lo spettatore comincia a non capirci letteralmente più nulla di quello che sta accadendo tra realtà e finzione perché ci sono proprio diversi binari che si staccano e vanno ognuno per conto suo su quella che potrebbe essere la verità e questo fino alla fine letteralmente fino all'ultima scena praticamente è una cosa che io credo di star iniziando a capire ora con l'ultima visione del cinema probabilmente vai Martina io la prima volta che lo vedi pensai che in realtà era tutto nella sua testa pure la fine poi quando l'ho rivisto ho detto no aspetta era la tipa che è la sua assistente Rumi era Rumi e poi ok è lei però effettivamente alla prima visione io non ero così sicura di aver davvero capito il finale in sé cioè che poi non tanto capire come finisce l'altro ma proprio interpretare quindi è nella sua testa con l'interpretazione data al finale ma infatti secondo me lui è stato bravissimo a far capire allo spettatore che cosa voglio dire essere Mima cioè per me questa è la cosa più terrificante di quel film sì 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 assolutamente ma c'è la roba pazzesca che secondo me c'è uno di quei film che oltre al fatto che ogni visione cogli o interpreti in maniera diversa a seconda di quanta roba cogli o di quanto ti fai confondere cioè la cosa più straordinaria è che lui dall'inizio che usa una quantità di escamotage di montaggio narrativi metatestuali che sono strutturati apposta per confonderti cioè per darti un'idea diversa di quello che succede che non so la transizione di quando si chiude la porta c'è l'inquadratura dall'altra parte in un altro posto cioè è fatto apposta per spaisare i peggiori di questo tipo scusami Gianluca i peggiori di questo tipo secondo me sono quelle scene quando stanno recitando all'interno del film dove recita Mima ma si capisce ma perché 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 il dialogo che loro stanno recitando all'interno del film è legato a quello della realtà che stanno esatto esatto pazzesco cioè è folle questa cosa perché dici vabbè ma adesso non staranno recitando perché esatto lei sta dicendo una cosa che è perfettamente cioè non è che recitano il film di boh lei che mi viene in mente perché per Millennium Actress di lei che fa l'astronauta vabbè poi lo vedremo nel prossimo anche lì e dici vabbè lì finché fa quello è ovvio no cioè le battute sono praticamente le stesse cose che lei e gli attori di fianco a lei avrebbero detto se non stessero recitando in quel preciso momento esatto quindi sei completamente spesato c'è la parte dello psicologo che lei è dall'altra parte del vetro io la prima volta che lo vidi lì pensai ah ok e lì io ero certa e sicura che la chiave del film si era già scoperta cioè lì ero ero sicurissima ma poi un ribaltamento dopo l'altro ci sono una serie di chiavi di volta che ti danno una interpretazione a posteriore di tutto il film e quindi dici ah ma quindi era tutta una roba dentro il film ah ma quindi è lei gramata ah ma quindi ci sono 3-4 di questi twist ma anche di più ma saranno tipo sì anche di più secondo me ora non voglio esagerare ma saranno una decina di volte che senti che ti arrivano proprio come una raffica di schiaffi cioè che dici un attimo ma cioè fammi capire ed è per questo che il finale per quanto in realtà vedendolo una seconda volta sia anche abbastanza ovvia la lettura del finale perché poi rivedendolo non ho pensato ho detto ah no beh però in realtà è abbastanza palese che non è vero che era nella sua testa ma la prima volta che lo vedi cioè la seconda volta che lo guardi sai che ci saranno tutti quei Chuck e quindi già te li aspetto ma la prima volta che non lo sai anche per quello quindi arrivi alla fine del film a dire chissà se è davvero così e sta roba torna anche poi in tante altre opere sue secondo me tutte a parte Tokyo Gold Fathers che è l'unica lineare che è l'unica lineare ma arrivi alla fine che sei praticamente così pieno di dubbi che fino a quando non sono i titoli di coda stai lì a chiederti io al cinema ho anche guardato un pochino le reazioni della gente dato che comunque per me era tipo la quindicesima volta che lo vedevo quindi non è che eravano state da filmare la gente ogni volta che c'erano questi Chuck questi ritorni alla realtà che facevano ah ma quindi è così no no non è così ok e dopo dieci minuti è uguale è una cosa che effettivamente può anche può anche far non piacere secondo me il film perché la maggior parte delle persone le ho sentite entusiaste però ho sentito anche qualcuno che non lo apprezzava perché secondo me ritorna un po' il discorso della poca soglia d'attenzione e comunque del volere anche delle cose facili sono gusti è un film straniante comunque cioè con è un regista che un pochino devi sapere cosa cosa vai a guardare cosa ti aspetti perché non è un narratore classico è il il Lynch del mondo anime se vogliamo protagonarlo quindi se vai a vedere un team di Lynch pensando che avrai una narrazione canonica e lineare però la cosa figa è che secondo me in Perfect 1 nonostante sia il primo film che lui ha fatto tra l'altro con dei mezzi imitatissimi infatti si vede un pochino nel restato in 4k un po' di limitazioni più che altro nelle animazioni nel disegno forse cioè la cosa figa è che però come in Paranoia Agent c'è come dicevamo prima la summa massima di tutta la sua poetica Perfeblu c'ha già tutto dentro perché comunque c'ha la critica della società giapponese c'ha il metacinema perché si parla tantissimo di cinema e si fa con degli escamotaggi narrativi che puntano proprio sul linguaggio cinematografico c'ha le citazioni al cinema occidentale cioè diciamo che è il primo la critica internet la tecnologia bravissima la tecnologia ma poi secondo me secondo me più che critica poi ti faccio parlare Marti più che critica quella di Con è quasi quasi una predizione una predizione si dice così a voglia cioè veramente perché per essere il 97 comunque io mi ricordo che internet sì c'era però appunto c'erano questi siti un po' così un po' primordiali un po' dove tu non è che potevi immaginare cioè almeno sicuramente non io poi ditemi anche voi io sicuramente non mi immaginavo di arrivare ad avere i social network vabbè sì perché dovevi sottolinearlo così potevi far finta di di sicuro no perché nel 97 mi stavo proprio chiedendo cosa avrei mangiato come pappa a colazione esatto no però davvero non mi sarei vabbè ma io avevo 12 anni però comunque penso che anche se fossi stato più grande mai e poi mai mi sarei messo lì a pensare magari che potevano arrivare i social network o che comunque internet ma va poteva diventare qualcosa che insomma poteva aiutare a spiare le persone o comunque ad avere tematiche di questo cibo anche io nonostante comunque sono più piccola però comunque ho vissuto anch'io l'inizio di internet in realtà anch'io quando ero piccola c'erano i telefoni che se per sbaglio cliccavi su internet ti dovevi vendere la casa cioè nel senso quindi in realtà sì magari voi un pochino più di me ma comunque pure io cioè il mio primo cellulare non ci potevo andare su internet gli mms costavano troppo e gli sms erano contati ne avevi cento al giorno che capivi chi era davvero importante in base a ai messaggi a chi sì in base ai messaggi poi quando partiva la litigata gli erano bestemmie perché in cento messaggi dovevi iniziare dire la tua e chiuderla ma questo è un altro discorso che parleremo magari un'altra volta gli squilli io ricordo gli squilli gli squilli sì sì la critica internet è incredibile e tra l'altro una cosa che io ho notato c'è questa in Perfect Blue c'è anche in Paranoia Agent e pure in Paprika queste stanze chiuse buie piene zeppe di roba con qualcuno all'interno di quella stanza che sta andando in Paranoia appunto c'è in un modo o nell'altro che in Perfect Blue è lo stalker in Paranoia Agent è poi quello che è l'ispettore poi si vedrà dopo che lui è in Paprika pure mi pare sia l'ispettore ora non ricordo nello specifico però comunque c'è quella piena di popazzi bambole sì ed effettivamente cioè se notate nelle stanze così chiuse che ti fanno venire proprio la claustrofobia c'è qualcuno che sta usando un computer con internet in un modo molto borderline anzi pure superato esatto proprio per far capire ancora di più secondo me probabilmente la sua paura cioè un po' ci vedo probabilmente sia un essere lungimirante da capire probabilmente avrà pensato conoscendo le persone e perché anche il tema dello stalking l'ha anticipato di parecchi anni cioè non è che si parlava perché se uscisse Ora Perfette Blu Raga credo che non verrebbe considerato un capolavoro ma sarebbe una banalità sarebbe sicuramente attuale ma appunto perché purtroppo noi viviamo sì però sarebbe una cosa che hanno già fatto tutti che tanto è la realtà in cui viviamo e dici sì vabbè grazie lo stalker esatto c'è una cosa ormai di quasi 30 anni fa di qualcuno che ti parla e non è che dici la accenna non sapendo ma lui descrive perfettamente quello che è uno stalker infatti sì lui è stato un genio scusa no no vai vai cioè il conno è stato un genio appare a te vabbè per le trovate narrative registiche tutto ma anche per l'essere anticipatore in maniera straordinaria per le tematiche per il tipo di narrazione poi vabbè lì secondo me è stato anche c'è stata anche una oltre il suo genio c'è stata anche una fortuna alla sua base perché comunque lui ha avuto dei maestri illustri perché comunque lui è è nato sotto la stella di di otomo di omuruboshi quindi comunque lì è ovviamente ha avuto una formazione artistica sin dalla base che l'ha aiutato l'ha aiutato il fatto che prima di akira gli anime di quel tipo in occidente non è che fossero troppo conosciuti cioè akira negli stati uniti fu dirompente poi Maurizio saprà dire di più su questo però è stato quello è stato un po' una pietra di sfondamento che ha fatto capire all'occidente ah ok ma quindi l'animazione giapponese è pure questa roba Akira è stata letteralmente la porta per l'animazione ma anche il manga tramite l'america per tutto l'occidente poi quindi è stato esattamente quello quindi poi lui ha avuto sempre uno studio di produzione che l'ha supportato l'ha caldeggiato ha dato modo di sfruttare di mettere in piedi le sue idee come meglio credeva poi chiaramente lo faceva perché Connor era un genio e le creazioni che portava alla luce erano incredibili però pure lì è importante sottolineare anche il ruolo della produzione assolutamente lo vediamo in paranoia e la produzione dovrebbe essere è stata una figata perché poi è stato un genio che ha avuto modo di essere alimentato e di vedere alimentato il suo genio dalla sua formazione dalle sue prime opere dal sistema e comunque l'ha aiutato e quello è stato figo perché è stato una serie di coincidenze di astri di produzioni che hanno dato modo di vedere queste robe veramente venire alla luce così è bella come roba certo ma anche di buona volontà secondo me perché è una cosa che spesso manca anche io ho visto tante interviste a Con e mi dispiace ancora di più per come è finita la storia della sua vita insomma perché era uno dei pochissimi registi o comunque artisti in generale nipponici che vedevo veramente ridere tanto tanto di gusto spesso e invece molti altri no però a parte questo era interessantissimo tipo Miyazaki esattamente tra l'altro questa scena è un déjà vu per me come se l'avessi già vissuta va bene ma a parte questo facci un film il sogno il sogno déjà vu tra l'altro nella live su Con bellissimo no era interessantissimo quello che diceva Martina perché oltre al discorso di internet secondo me lui ha anticipato tantissimo il discorso degli Ikikomori per esempio a voglia cioè il discorso dell'accumulo che faceva Marti è proprio alla base di un libro di come si chiama Hideki Atsuma mi sembra che si chiama Generazione Otaku comunque in italiano e parla proprio dell'accumulo degli otaku che prima era sotto forma di quello che vediamo anche nei film di Con quindi bambole figure dvd videocassette statue e poi è diventato un accumulo digitale tutto completamente incasinato perché loro hanno quella bolla della loro vita che è quella stanza però essendo comunque alla fine degli uomini e quindi animali sociali in qualche modo cercano la socialità però come lo fanno lo fanno attraverso attraverso la rete attraverso internet e quello è il loro modo per andare oltre per andare al di fuori perché è l'unico modo che hanno per anche costruirsi un'identità diversa da quella che è la loro perché spesso si vergognano poi alla fine di come sono a volte anche giustamente insomma sono parecchio lasciati andare parecchio degradati ma io ad esempio cioè se ci penso oltre che empatizzare con Mima cioè sarà assurdo ma io ho empatizzato un sacco anche col suo stalker in che senso cioè che durante la visione cioè quello che dicevo era che vita avrà vissuto quest'uomo cioè lì vedi proprio cioè lui secondo me è l'incarnazione del fallimento della società perché io sono del parere che nel momento in cui ci siano persone e tante non poche poi lo vediamo anche negli ultimi anni di come il fenomeno dell'Ikikomori abbia pure distrutto le barriere dal Giappone se stia diffondendo anche nel resto del mondo esatto cioè non è niente poco di meno che la conferma che la società lascia proprio indietro le persone deboli cioè immagino che traumi perché noi non sappiamo davvero nulla di quella persona lì cioè noi vediamo solamente come lui si comporta nei confronti dell'unica persona che ammira c'è probabilmente anche quando vuole che rimanga pura a parte tutto il discorso degli idol che è quello assolutamente il fatto che appunto ho visto qualche video riguardo che non possono dire se sono fidanzati se no perdono il lavoro perché comunque c'è la persona dall'altra parte visto che gli idol fanno anche un po' i raduni ditemi se sbaglio però mi pare di sì cioè chi ti ascolta deve avere l'idea di poter avere la possibilità di provarci con te se sei fidanzata o fidanzato non puoi è stato un fenomeno che succede che poi non ci proverà mai però deve sapere di poter essere in grado che può avere la possibilità e questo tanto per gli uomini quanto per le donne perché comunque ho letto qualcosina hai visto qualche video di come anche anche ad oggi gli idol coreani uomini cioè siano stalkerati e quant'altro da fan donne quindi questa è una cosa che per quanto magari prima non lo so potesse essere un fenomeno più maschile in realtà ora io credo non voglio fare percentuali però sono anche le donne no no ma c'è e ti dirò di psiumarti tra l'altro c'è anche la pratica degli host club comunque in Giappone che sono i club dove ci sono gli host maschi che intrattengono anche senza fini sessuali poi quelli magari possono arrivare diciamo anche extra lavoro o quant'altro mettendosi d'accordo però gli host club sono questi posti questi club appunto questi locali dove ci sono questi ragazzi bellissimi come dei modelli che intrattengono le donne le signore ma non ci vanno solo le signore settantenni ci vanno anche le ragazze che che spendono fior fior di migliaia di yen comprando le bottiglie di Moe Shandon da portare al tavolo che ovviamente pagano tutto le clienti e questo è sintomatico secondo me della di una cosa in particolare di come i giapponesi vivono le relazioni cioè di questa chiusura che hanno nelle relazioni tanto che devono andare a rifugiarsi poi in relazioni fittizie perché spesso non riescono ad avere quelle normali o se ce le hanno ce le hanno in modo non normale infatti secondo me c'è ma no era solo per concludere cioè lui oltre che tutta la questione appunto di idol e quant'altro però non sapendo nulla di lui nella scena proprio in cui lui la aggredisce perché ormai lei è sporca non è più cioè ci ho visto quasi un voler salvare quella che è l'idea di fanciullezza infanzia candida e pura che probabilmente rispecchia la sua mai avuta perché per quanto ne sappiamo noi lui potrebbe aver subito davvero qualsiasi cosa e magari è nel libro è ancora più dichiarata questa cosa del mantenere la sua innocenza sì 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 lui glielo dice proprio in delle lettere che le manda che il suo scopo è quello di mantenere l'innocenza questa roba è cioè quella più inquietante comunque alla fine la funzione quasi che lui si vede come una funzione salvifica quella di preservare la purezza che alla fine però si va a iscrivere in un sistema che è già di base queste idol le cerca di di preservare mantenendo un'aura di illibata virginia quasi no quasi bambinesca anche quasi fanciullesca sì ma al punto tale che tu spettatore pensi che lui voglia abusare di lei e farle del male in questo no lui minimamente cioè lui non avrebbe mai fatto nulla a livello sessuale con lei secondo me nemmeno nella sua stanza banalmente perché per me con qualcosa l'avrebbe fatto vedere se no magari si avrebbe dato una scena ultra esplicita ma avrebbe dato modo di farcelo sapere e questo invece no perché secondo me lui non prova nemmeno pulsioni sessuali nei confronti di lei cioè mi dà proprio l'idea che è come se avesse uno specchio davanti e per cercare di salvare la fanciullezza di Mima lui volesse in realtà in qualche modo salvare la propria che è stata strappata via da non si sa chi e non sappiamo nemmeno se è così però è un personaggio secondo me assurdo lui cioè è quello che mi ha fatto più pena in realtà di tutto il film quella con cui non sono invece riuscita a empatizzare è appunto l'assistente ma questo nome mi riesco a ricordare ma sai che però anche lì se vai a vedere pure lei c'è tutti i traumi ha le sue motivazioni non essere la numero uno il passato l'essere un ex idol eccetera 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 c'è in realtà anche lei cioè sono tutti vittime tutti l'unico di cui non si vedono effettivamente cioè non si vede nessuna motivazione a quello che è diventato oggi è appunto lo stalker ma secondo me questo potrebbe essere anche qui un messaggio di con una metafora del fatto che il Giappone spesso si gira dall'altra parte in certe occasioni a me vengono in mente i casi di bullismo a scuola soprattutto e ci sono tanti casi dove che abbiamo visto che praticamente questo andava avanti per anni anni mesi e nessuno professori consulenti nessuno si faceva carico di questi problemi semplicemente ignorandoli o facendo finta di non averli ma non solo in Giappone io ultimamente ho letto un bellissimo fumetto su Ed Gein che il mio amico no che fine ha fatto Ed Gein mi sembra che fine ha fatto quello di Powell no 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 quello è un altro no di Ed Gein scusami di l'assassino quello che ammazzava i suoi amanti ah Ted Bundy no vabbè ora non mi viene il nome però quel ragazzo Damer Damer esatto quello che ci hanno fatto il serial su Netflix aspetta cosa c'è di Damer un fumetto si chiama dopo te lo scrivo dopo te lo scrivo ecco praticamente il fumettista è un amico ex amico di Damer ovviamente nel senso che ci ha fatto le scuole insieme quindi racconta di questa cosa e racconta all'interno del fumetto nonostante Damer di stranezza ne facesse parecchie anche all'epoca nessuno 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 tra genitori insegnanti psicologi ha fatto nulla no no non solo ha fatto nulla tutti dicevano di non essersi accorti di nessun di nessuna stranezza che avrebbe potuto portare a quello che ha fatto dopo per dire quanto ed è qua il fallimento della società cioè di come proprio non voglia minimamente guardare quello che c'è di marcio all'interno cioè ora infatti uno dei miei fumetti preferiti è Ichi the Killer proprio per questo cioè loro si ammazzano e fanno la qualunque e non c'è uno straccio di poliziotto che arriva una certa cioè perché sono proprio le pieghe delle pieghe della società cioè gli scarti che quasi ormai possono fare le cose anche davanti a tutti anche in Tech on King Crit si vede per dire questa cosa possono fare le cose davanti a tutti perché tanto sono considerati talmente nulla appunto neanche poco ma nulla non la possono fare davanti a tutti perché non vengono proprio guardati come se fossero invisibili questa è una roba che poi nella società giapponese è a maggior ragione è stanno improntata molto sull'apparenza certo sull'apparenza chiaramente chi sta al margine della società viene lasciato ancora di più al margine perché se non lo guardi non esiste non esiste il problema poi per carità Ikikomori è una problematica che sta affleggiando sempre di più anche l'Occidente però diciamo che in Giappone è alimentata da una struttura della società che vede una priorizzazione con fronte di determinati temi per i quali chiaramente c'è anche meno volontà di c'era almeno adesso molto di più c'è sensibilizzazione però allora era proprio un qualcosa di cui non si parlava che non esisteva no perché viene appunto preferisco non nasconderlo piuttosto che affrontarlo e quello è il problema soprattutto poi perché un Ikikomori non fa proprio rumore hai capito nel senso non è quello che entra c'è che il serial killer che comunque ha una certa la polizia quant'altro inizia a fare il suo lavoro ovviamente per cercarlo c'è l'Ikikomori alla fine semplice non vederlo no? si 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 ed è improduttivo soprattutto quindi per la società giapponese meglio quasi quasi che che si tolga la vita o cose del genere piuttosto che perché tanto non produce non serve a niente nella loro società che è super vabbè capitalistica un po' come tutte quelle occidentali ti ho sentito questo lampo? si ho sentito un'umorina si infatti è un lampo vabbè non dovrebbe saltare la collezione però no no ma non penso in un flash alla perfect blue Martina scompare no cambia scena questa live è folle esatto il temporale tipo cambia scena veramente ci accorgiamo che in realtà non è una live ma è una scena di un film in cui stiamo prendendo una live ho amato così tanto il fatto che poi come dicevamo pure oltre alla società e alle critiche alla società c'ha già vabbè prende un sacco di echi del cinema di Hitchcock basta pensare a Vertigo a De Palma però essendo anche un'opera prima ha ispirato tantissimi registi occidentali guarda il ciglio nero il ciglio nero di Aronofsky ci sta all'inquadratura quella di Requiem For a Dream di Aronofsky che è esattamente quella di Mima che urla nella vasca è incredibile che già un'opera prima da regista di Conn abbia flessato così tanto un tipo di cinema diversissimo rispetto a quello quello giapponese già questa è stata una cosa incredibile che poi si è alimentata con tutti gli altri anche sulle citazioni potremmo farne una live a parte che veramente dopo tanti 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 registi hanno preso al limite del plagio eh al limite del plagio si può dire su alcuni però vabbè dai vediamoli come omaggi vediamoli come citazioni benevole comunque alla fine a livello proprio di storie di per sé non ci sono veri e propri plagi nel senso che non vediamo un film che è totalmente copiato da qualcosa di Conn però anche scene letteralmente fatte con paprika esatto tante tante cose comunque perfetto meraviglioso effettivamente anche parlandone così potrebbe arrivare ai primissimi posti forse l'unica cosa magari è un po' lo stile di disegno che è un po' invecchiato male alcune cose sull'animazione però secondo me gli dà quella cosa in più a me piace il disegno così si gli dà quel tocco in più cioè lo rende anche più inquietante vero 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 infatti su questo perfect blue solo da questo punto di vista oddio non sapendo scegliere tra perfect blue e millennium actress appunto non ti so dire quale preferisco però di base nonostante paprika mi sia piaciuto tantissimo però secondo me perfect blue col disegno così mi dà proprio quel quid in più cioè completamente in più perché cioè mi ha proprio inquietato proprio perché era anche strano cioè ha disegnato un po' senza anche gli occhi come ha messo gli occhi tipo di rumi cioè sono stranissimi no ma perché uno può dire vabbè è del 97 però già nel 97 comunque c'erano opere disegnate anche con un stile più anche moderno se vogliamo quindi molto probabilmente è fatto anche appositamente in quel modo è un'altra cosa che tu dissi a gusto personale vai 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 a gusto personale cioè gli anime degli anni 90 fatti in quel modo a me piacciono decisamente di più quindi lì ti dico cioè con me sponi una porta aperta che io tutta la vita preferirò quello ma anche a livello di cinema c'è il mio decennio preferito dei film è 95 2005 praticamente tutti i miei film preferiti arrivano in quel decennio in pratica ma guarda meno male che non sei tra quei giovani che dicono ora io non faccio mai gatekeeping ognuno ha i suoi gusti va bene però quando sento dire quella cosa non la guardo perché è vecchia io quelle baccate lì proprio non riesco a concepirle mi dispiace per me hanno qualcosa in più davvero non lo so mi pare che abbiano più anima non ti so dire no vabbè ci sta ci sta ci sta era anche più facile sicuramente all'epoca magari fare cose anche più originali ci mancherebbe chiaramente ma ti dico anche con anime che ho amato tantissimo usciti dopo però secondo me quel fascino che avevano non so se ci sono i quattro terzi anche che facevano penso c'è Evangelion per dire secondo me le rebuild per quanto mi piacciono ma poi l'estetica della serie non ce l'ho un po' retro ci piace eh capito sì vabbè poi su Eva a me in generale comunque piace molto di più la serie rispetto ai rebuild anche tolta l'estetica e tutto il resto però parliamo potremmo fare una live pure su Evangelion però mi devo riguardare i rebuild perché anche lì mi ricordo poco ho passato il 30 anni anch'io con la scusa li ho riguardanti tipo cinque mesi fa ma me li riguardo vabbè io riguardo anche la serie non c'è problema anzi ogni tanto la riguardo comunque nessun problema no un'altra cosa su Perfect Blue poi passiamo ad altra che comunque è passata un'ora e stiamo parlando ancora di Perfect Blue effettivamente esatto volevo riallacciarmi a una cosa che ha detto Martina prima cioè il fatto che Con non avrebbe avuto problemi a rappresentare anche la scena di sessualità dello stalker effettivamente c'è una scena di sessualità molto pesante in Perfect Blue voi come l'avete vista perché ho letto quella della violenza carnale sì naturalmente ho letto di persone che non l'avrebbero messa io non sono per niente d'accordo col non metterla no è necessario è un punto di svolta della narrazione cioè da quel punto cioè già tu prima vedevi una persona che è me ma che ha tantissime crepe in quel momento là è quando le crepe si trantumano è fondamentale è un punto di svolta è un punto chiave secondo me essendo tremenda seppur fictizia ha una brutalità nella messa in scena che non avrebbe sortito l'effetto voluto se fosse stata edulcorata cioè alla fine è narrativamente funzionale questo tipo di cose e nasconderle o non farle vedere è stupida come cosa cioè alla fine nella sua bruttura è giusto farla vedere così anche perché se ci pensate cioè se avesse ad esempio fatto intendere girando la telecamera se lo spettatore che cosa avrebbe capito quella non era un vero stupro quella era la scena in cui veniva girato uno stupro quindi noi spettatori non avremmo empatizzato cioè ci sarebbe mancata una cosa cioè sarebbe mancata effettivamente la chiave di lettura perché dici vabbè ma perché questa è impazzita cioè ha girato una scena sì ovvio se sei un po' empatico puoi anche capirlo sì chiaro però anche per me era fondamentale ma soprattutto io sono dell'idea che se lui voleva metterla allora andava messa cioè fine neanche da dire sarebbe potuto essere più bello non lo so e neanche in realtà mi interessa perché lui ha voluto così esatto ma poi posso dire che secondo me ed è fatta magistralmente per quanto ovviamente ecco è una scena cruda però è fatta magistralmente come diceva Marty e non l'ho vista poi magari perché sono un uomo e tutto e non l'ho vista così così pesante per come viene messa in scena cioè è più a livello psicologico che a livello di di quello che si vede ho capito la pesantezza di quella scena comunque lui in un certo modo censura comunque esatto quella scena in un certo modo non è non è violenta per il gusto di esserla per farti venire il ribrezzo e basta esatto c'è non ho capito la gente che si lamenta di questa scena gli prevedere la 15 minuti di scena del stupro dell'irreversibile di Noé ah vabbè se si trattano le nesti oppure a Serbia un film a Serbia un film sviene direttamente ma anche ma anche Jennifer's Body per me era peggio come scena era più cruda non so se l'hai visto era comunque oddio l'ho visto Jennifer's Body quello con Megan Fox non mi ricordo di una scena mi ricordo solo Megan Fox di quel film l'avevo visto vent'anni fa quando è uscito e vabbè si quindi sono d'accordo anche su questa scena assolutamente bene 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 vabbè ok capolavoro totale guardate Perfect Blue se ancora non l'avete fatto film successivo è quello preferito quindi a quanto pare di molti di voi compresi Gianluca e Martina e anche molti di voi in chat è Millennium Actress che io ripeto ovviamente piace anche a me ti dico magari tra tutti è quello che mi è piaciuto un po' meno però ripeto ancora che a livello visivo è forse uno dei più completi veramente con delle scene eccezionali il disegno cambia tantissimo rispetto a Perfect Blue fa un salto di qualità a parte quello che dirà Martina che preferisce quell'altro però tecnicamente comunque fa un salto di qualità io ti dico a livello è che a livello di inquietudine quel tipo di però poi non è che non mi piaccia anzi questo sì è più Paprika che è già sulla nuova impronta di animazione però in realtà l'amo comunque però ciao Andrea in chat anche lui Millennium Actress il miglior film della storia dell'animazione vedi anche lui forse è il suo preferito evidentemente ma ci sta ci sta comunque molto molto bello il film che parla di questa attrice della sua carriera e lo fa attraverso il documentario che è un regista un regista che è un suo super fan adoratore totale completamente pazzo di lei gira questo documentario e noi praticamente cioè tra virgolette vediamo solo l'intervista che lui le fa per far partire questo documentario ma dall'intervista si dipana tutto il film poi che ci porta a vedere la sua giovinezza la sua adolescenza tutta la sua vita di questa signora che attualmente al momento in cui inizia il film è avanti con gli anni e la cosa principale oltre a essere secondo me il film più cinematografico nel senso di amore per il cinema che Con lascia da questo film penso sia evidente è anche quello più puramente film d'amore perché comunque molto è basato sull'amore di questa protagonista verso questo uomo misterioso che lei incontra da piccola dopo una fugace notte d'amore lui va via perché comunque abbiamo sullo sfondo anche la guerra uno sfondo di paesi sicuramente non nella massima tranquillità e lui va via appunto per i suoi doveri e lei passa fondamentalmente tutto il film al rincore di questo amore anche perché poi questo simbolismo viene aiutato dal fatto che lui le ha lasciato una chiave e lei vuole anche ridargliela fanno un patto fanno un patto che gliela avrebbe ridata e fino alla fine del film praticamente lei cerca questo noi lo vediamo appunto attraverso le parole di questa signora che si racconta a questo regista in questo susseguirsi di scene di ambientazioni completamente diverse l'uno dall'altro ci sono ambientazioni di guerra ambientazioni d'antico Giappone ambientazioni come la scena che citavo prima che è meravigliosa con un chiarissimo omaggio alle stampe Ukiyo-e si vede veramente di tutto Ikaizu Eiga perché poi il grande protagonista è anche questo studio cinematografico che appunto chiude all'inizio della pellicola e quindi si ripercorre tanto Eiga quindi il cinema giapponese Ikaizu come dice Gianluca si vede il film fantascientifico si vedono tantissimi set diversi e quindi un'abilità incredibile anche a livello tecnico è veramente allucinante veramente allucinante bello bello assurdo cioè di come proprio ripercorrono la storia di lei tramite i film che lei stessa ha girato e come in Perfect Blue pure qua quando parlano cioè e le scene che girano all'interno del film dei vari film in realtà che a tutti chiedi arrivi alla fine del film e io mi sono chiesta ma lei quando è in punto di morte in ospedale veniva da dire ma ora diranno un Chuck me lo aspetto chissà se sta girando ancora oppure no che però se ci pensate in realtà in un certo qualsenso sta girando perché sta girando il film di Satoshi Kon che è Milani Max in realtà e quindi effettivamente lei è qui c'è anche in quel momento è completamente folle la scena la sequenza finale di lei che corre e anche qua come in Perfect Blue c'è il passaggio che se lei cade cade per terra e improvvisamente c'è la neve perché è il set in cui stavano girando un film in cui c'è la neve è qualcosa perché la trama di base è abbastanza semplice la trama di base non è nemmeno il mio cioè a me le storie d'amore per chi mi conosce lo sa non sono il mio però in questo caso cioè è proprio cioè va bene sì c'è ma non serve quasi quella anzi secondo me sono curiosa di sapere la vostra cioè io ho un po' interpretato e quell'uomo e quella chiave cioè alla fine dici è esistito davvero potrebbe essere reale come no contestato non era non era reale alla fine lui era la chiave di svolta per lei per effettivamente fare l'attrice che era il suo sogno da piccola e sua madre gli diceva no perché devi fare la casalinga che cosa deve fare l'attrice quindi lui per quanto gli abbia dato un amore che lei non ha più potuto vivere quindi questo senso di dispiacere però in realtà gli ha dato qualcosa di fondamentale nella sua vita ovvero il cercarlo e cercandolo fare girare il film e quant'altro c'è ma infatti a me la roba metacinematografica in generale mi manda già fuori di testa mi fanno impazzire le opere cinematografiche che parlano di cinema e qua cioè si parla di metacinema a livello esponenziale perché è cinema che parla di cinema che parla di cinema che parla di cinema che parla di cinema è iscritto in un film che è di per sé secondo me un inno all'amore nei confronti del cinema di Conn quindi secondo me l'amore che questa donna parla per quest'uomo è il parallelismo un po' dell'amore stesso della donna per il mondo del cinema nel quale lei ha vissuto e nel quale è entrata ma è anche lo stesso amore che dichiara Conn nei confronti dell'atto creativo nei confronti della Settimart della roba meravigliosa a me è sembrato un po' un viale del tramonto però in chiave positiva e romantica quindi una donna anziana che ormai sta uscendo da un mondo che l'ha fatta vivere mille vite diverse che vediamo qua all'interno di questo film che riguarda il passato e tutto quanto quello che è stato scrivendo una bellissima e nostalgica lettera d'amore che parla poi tra l'altro anche della vecchiaia della giovinezza anche questo è bellissimo come tipo di discorso da parte di una persona appunto che alla fine il cinema l'ha fatta un po' crescere e poi sì come diciamo tutte quante i riferimenti al cinema filmato dalla troupe stessa all'interno del film che però racconta e getta un occhio a tutto quanto quello che il cinema è stato per lei e tutto quanto quello che il cinema giapponese è stato per Conn quindi tutte le influenze sceni storici cioè veramente il godimento totale di ogni cinefilo di ogni appassionato di cinema giapponese non il fatto che sia strutturato poi tantissimo quasi come un piano sequenza con queste scene che si seguono dopo l'altro gli inseguimenti sì 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 transizioni assurde che fanno che passano dalla realtà quando arrivano i comunisti cioè che dici così ma fuori di testa io godo quando lo rivedo cioè veramente un qualcosa una poesia d'amore nei confronti della settimana e il bello secondo me di questo film è che potrebbe essere un godimento anche se toglie l'audio cioè solo a vederlo proprio come anche se lasci solo l'audio anche i titoli di coda c'è quella host è qualcosa di secondo me la più bella di tutte le cose di Conn anche più dell'host di Paranoia Agent ma infatti nel making of loro dicono se non sbaglio era quello di Millennium Actress che hanno fatto una cosa molto particolare ovvero hanno registrato tipo una traccia audio e tutto il film con gli storyboard che si vedevano sotto e poi lì da lì sono partiti per fare le scene quindi l'audio è assolutamente fondamentale ma secondo me un'altra cosa che è una bella metafora che magari ci ho visto io e basta però mi andava di dirla che quella chiave potrebbe essere la chiave proprio per l'indipendenza di questa donna perché lei comunque è una donna fortissima è una donna cioè è una donna che è veramente rispetto a quei tempi e lui ha dato il suo futuro sì esatto il suo futuro ma anche proprio una chiave per tutte le donne di quel Giappone di quel periodo per in qualche modo anche ribellarsi a quello che sembrava essere il loro destino segnato che era la madre ovviamente che voleva che non fosse che facesse la classica vita che si prospettava una donna giapponese dell'epoca cioè di fare la casalinga di trovare un marito che poi è quello che vuole anche alla fine praticamente la madre anche quando la figlia ormai è è grande ha vissuto gran parte della vita continua con questa cosa e quindi è anche forse uno dei personaggi forse più indipendente femminile di Con nonostante poi lo sia anche Mimma lo siano anche altre però anche ovviamente quella di Paprika ci mancherebbe però qui proprio rispetto al al contesto storico e sociale è quella che emerge maggiormente sotto questo aspetto secondo me anche secondo me perché e però lei ha fatto tutta la vita alla ricerca di un uomo ma in realtà secondo me anche lei in cor suo sapeva che non stava cercando davvero quell'uomo cioè nel senso quell'uomo era nella sua mente l'impersonificazione un ideale un ideale che poi era quello che lei stava facendo nel quotidiano appunto cioè il fare l'attrice secondo me quanto meno ma poi un'altra roba che mi è piaciuta tantissimo è che i due tipi dell'inizio che devono girare il documentario poi poi hai tutto il flashback appunto dei vari film e loro sono lì a girare il documentario cioè perché mentre la sentono e c'è il fan numero uno che poi è anche quello che la salverà più di una volta e si impersonifica e arriva a recitare pure lui no perché dice ah quella scena la sua memoria l'ha visto 50 volte quel film esatto cioè che loro all'interno cioè non si limitano a sentire le sue parole e basta ma ripercorrono e quindi ti chiedi il documentario se è Millennium Actress quindi è alla fine sembra che è quel il girato praticamente perché loro girano e così via quindi sembrerebbe cioè troppo incredibile ed è bello pure il fatto come dicevate che alla fine Con scrive come protagonista spesso e volentieri i protagonisti femminili cosa che lui stesso ha detto che era molto più divertente scriverle essendo molto più sfaccettate molto più stratificate è bella pure sta roba cioè c'è in chat chi citava il cinema di Odu di Ozu sì certo Ozu Kitano cioè la cosa figa di Con secondo me che ha ispirazione ovunque cioè dal mondo degli anime appunto Otomo Mamoruoshi ha ispirazione dal cinema giapponese che si vedeva tutte qua in Millennium Actress Ozu Kitano appunto ha 8000 ispirazioni dal cinema occidentale Capra Landis Hitchcock cioè è veramente un concentrato allucinante ma anche dal manga stesso venendo dal manga poi è pazzesco cioè beh anche Ozu per l'epoca faceva delle donne super avanti mi ricordo che erano molto molto indipendenti che comunque avevano una forte caratterizzazione e personalità che non era così scontata in Giappone in quell'epoca già non era scontata in generale figurati in Giappone esatto 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 e adesso poi colonna sorora fantastica anche qui veramente bellissima che secondo me segue proprio totalmente il film ed è meravigliosa passiamo quindi al film che è quello che non vi piace di Satoshi Kon Toyo Godfathers come mai non vi piace allora non è che non mi sia piaciuto è che è semplicemente è l'unico che proprio non riguarderei è meno da Kon secondo te ma non è solo quello cioè non è che mi è piaciuto meno perché non è onirico pazzo con cambi di inquadrature o altro assolutamente no anzi ti dico che un film più normale che stava anche in mezzo a tutto questo è proprio il soggetto che non mi ha fatto impazzire nonostante però cioè l'ho visto volentierissimo e ci sono degli spunti meravigliosi cioè di questa bambina che sarebbe alla fine cioè è effettivamente il miracolo di Natale perché Tokyo Godfathers non parla cioè parla praticamente di persone nello specifico questi tre barboni che hanno perso la propria strada le proprie famiglie e la motivazione anche per per vivere e la motivazione e tramite una bambina alla quale che è stata abbandonata si si pensa appunto parrebbe che sia stata abbandonata praticamente durante il loro viaggio per far sì che riescano a ritrovare la famiglia di questa bambina non fanno altro che ritrovare la loro di strada e la loro famiglia quindi in realtà e se stessi cioè è molto bello questo e ho amato anche poi gli scenari di Tokyo cioè le viette quant'altro per quello ti dico non è che non mi piace dire che non mi piace sarebbe una bugia no no certo rispetto agli altri e anzi anche delle scene umoristiche cioè all'inizio quando lo vedi pensi che sia ora no potresti pensare in realtà sapendo che è di stato Shikon lo sai che a una certa arriverà un qualcosa però potrebbe sembrare quello più stupido cosa assolutamente non vera dopo dieci minuti l'hai già capito che è profondo è molto profondo anche questo semplicemente non lo so il trio dei tre barboni mi è piaciuto ma non mi ha entusiasmato al punto tale poi ragazzi scusatemi non me ne vogliano tutte le mamme e i padri di questo mondo ma io ho odiato dal più profondo del mio cuore sentire quel neonato piangere per metà pellicola è più forte di me comprensibile ti giuro you got a point dopo un po' dice basta ti prego l'ho capito che sta piangendo finiscila per favore che possono fare ecco no certo ci mancherebbe peggio ancora quella cosa no però invece non è quello che se dovessi scegliere di con il film da buttare giù dalla torre se proprio avessi una pistola puntata dalla testa io non sceglierei Tokyo Godfathers ma Fabrica ma perché sì perché Fabrica secondo me arriva dopo quella che è già stata la summa che è già la roba più incredibile che avrebbe mai potuto fare secondo me Tokyo Godfathers io godo io mi rivedo quasi tutti i Natali quindi è uno dei miei film di Natale dovrei vedere guarda mi hai dato una bella idea lo dovrei vedere sotto Natale perché l'atmosfera cioè comunque davvero ci tengo a dire che se non ci fosse stata quella bambina che piangeva così tanto e un pelino meno di gag l'avrei amato di sicuro di più ma l'atmosfera che ti fa vivere è meravigliosa dovremmo fare la cat version per Martina con i pianti tolti senza i pianti dove a posto di trovare una bambina trovano un cagnolino è bello là pure io avrei preferito devo dire che i cani battono in bebbè 10 a 1 per questo per quanto mi riguarda no però le guardano a Natale grazie però cioè secondo me la cosa figa è che Tokyo Godfathers sembra un film che c'è paradossalmente quasi non di con perché comunque c'ha la critica alla società giapponese non ha troppo un'analisi della tecnologia della modernità sembra che non abbia un riferimento al cinema quando in realtà c'è la cosa pazzesca che secondo me è un film che è quasi camuffato da non essere un film che si va a iscrivere nella sua poetica mentre in realtà c'è tutto quanto anche lì perché alla fine è anzi il film forse è più cinematografico di tutti perché è quasi un remake totale come hai detto te oggi nel tuo straordinario reel Chirione il texano conosciuto così in Italia ultimamente con Joe Wayne in cui stavano questi tre scalcinati malviventi diciamo malviventi che trovavano una donna morta con un infante se ne prendevano carico per portarla al di là del deserto però ci stanno 8000 riferimenti a un altro tipo di cinema che ha forgiato con perché ci sta avevo dei miei film di sempre che è la vita meravigliosa di Frank Capra ci sta una poltrona per due di John Landis ci sta tutto in una notte sempre quasi cristologica dalla parte Trinità dall'altra quasi re magica quanto fa ridere la scena e arriva quella da dietro tipo Angelo bellissimo che lo svanta su e ti fa dimmi se vuoi fare sta cosa se ti porto direttamente lì e fa ma fammelo fare una cosa del genere è mega divertente e poi alla fine si va sempre di più verso quasi il realismo magico dei film di con fino a poi alla sequenza finale quei palazzi che cantano quella di coda meravigliosa folle come a rimarcare ricordate che però io sono sempre io esatto io lo amo molto c'è anche qua tantissimo tutta la critica alla società di cui parlavamo prima perché qua appunto abbiamo tre barboni cioè se c'era in un film l'ikikomori stalker qua appunto abbiamo tre barboni cioè mi piace il fatto che lui tenda sempre a voler parlare e tra l'altro non è mai ripetitivo perché anche questa cosa non lo è davvero mai nonostante abbia i suoi canoni in tutti i film praticamente riesce a non essere mai ripetitivo esatto esattamente e cioè è come Miyazaki nel senso da quel lato l'impronta lo vedi lo sai che è Miyazaki però non c'è nessun film che assimile a un altro è solo l'immaginario di base però per il resto e no di come anche davvero appunto parli sempre cioè praticamente lui prende quelli che sono i barboni che sono lo scarto della società e li rende i protagonisti del suo film dice ok allora adesso dato che nessuno si interessa a questa gente lo faccio io e non gli do un ruolo marginale no faccio sì che loro siano proprio i protagonisti all'interno di questo eroi salvatori esatto che è quello che poi diventano nel finale a tutti gli effetti esatto e poi di come c'è tutto una questa è una tematica che si vede anche anche in paranoia e gente no la genitorialità l'essere padre la difficoltà dell'essere padre vediamo di tutti i personaggi praticamente che hanno avuto un problema con la figura paterna e anche così come con la figura materna insomma quindi questo problema dei figli nei confronti dei padri e delle madri e delle madri e dei padri coi figli quindi quello è importantissimo no no per quello è bello nella società giapponese è importantissimo perché è una società che ha sempre visto i padri molto assenti perché si riallaccia al fatto che comunque essendo super produttivi e venendo da una società molto patriarcale c'era il classico schema dell'uomo che lavorava la donna stava in casa ad accudire i figli però questo poi portava che poi non è che è solo giapponese non sto dicendo questo ovviamente no no però lì era comunque un po' più calcata semplicemente c'è e quindi c'è questo rapporto di tutti c'è la ragazza più giovane che appunto ha avuto questo grave litigio col padre che poi l'ha portata ad essere dov'è c'è l'uomo che ha invece al contrario giocava ad azzardo e quindi ha avuto il distacco dalla figlia e dalla moglie e poi c'è anche Anna che è il il personaggio l'omosessuale che comunque è lei lui che si affeziona maggiormente alla bambina tra l'altro inizialmente prima che poi ovviamente questo succede anche agli altri due che ha anche una storia molto travagliata quindi questo non fa assolutamente il fatto che sia un film meno onirico rispetto agli altri non fa assolutamente Tokyo Godfathers un film semplice tra virgolette cioè che non ha una trama approfondita o stratificata e che si dipana andando avanti col film anzi a livello proprio di storia raccontata secondo me appunto rimane uno dei migliori storia e storie raccontate proprio all'interno del film se guardiamo ma perché il tuo preferito sono golioso come? il mio preferito? perché il tuo preferito sono golioso devi dire perché è proprio golioso sì 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 non lo so non so come mai per questo motivo forse perché io sono uno che dà molta importanza alla storia raccontata poi ci mancherebbe adoro anche tutte le scene oniriche più particolari e quant'altro però qui e Gianluca siamo più perliaci personale esatto cioè qui ci sono queste storie personali addirittura c'è una storia molto personale anche da parte poi dei genitori tra virgolette genitori della bambina insomma gli altri personaggi che vengono fuori più avanti anche la loro è una storia super approfondita nessuna delle storie raccontate in Tokyo Godfathers sono rimangono in superficie cioè sono tutte storie super approfondite super scandagliase e che ovviamente poi per forza di cose vanno a potersi riflettere con le storie di ognuno di noi che siamo giapponesi italiani o congolesi le storie degli esseri umani sono tutte sovrapponibili secondo me cioè ovviamente chi più chi meno con le dovute differenze delle società degli usi però a livello di sentimenti mente quant'altro certo perché lo ritengo anche molto universale il suo film è più universale sicuramente cioè Conn è sempre stato in grado di scandagliare benissimo la mente la psiche i turbamenti mentali psicologici e qua in Tokyo Godfathers è una cosa bella che esplora secondo me il lato sentimentale emozionale che forse è quello più universale è una cosa bella ma poi non credo nemmeno che non sia alla Satoshi Kon perché banalmente io delle sue opere dei manga che lui ha fatto letto solo La stirpe della sirena ad ora e La stirpe della sirena è una storia completamente lineare che non ha chissà che colpo di scena ora va bene a parte tutto l'immaginario delle sirene se sono reali se esistono davvero oppure no però è un pretesto poi l'uso della sirena esatto è completamente lineare come storia quindi effettivamente comunque ha già fatto cose del genere per quanto le due storie non abbiano nulla in comune però nel senso quindi già da lì si vede che in ogni caso a lui piace anche quello ma poi c'è Anna che dice una frase che mi sono segnata perché è meravigliosa allora c'è la scena di lei che praticamente quando lui ritrova la figlia gli butta addosso tutto tutte le cose brutte che ha fatto quest'uomo che è uno dei tre barboni e lì Ioana l'ho odiata tantissimo mi dava davvero tanto fastidio cioè dicevo basta ma che stronza ma effettivamente soprattutto perché lo fa davanti alla figlia in quel momento lì esatto che dici cavolo ma si sono e infatti la ragazza l'altra ragazza tra loro tre barboni gli fa ma cioè comunque ci si è andata abbastanza pesante voglio dire non avresti dovuto e lei dice potersi dire la verità è la linfa vitale dell'amore se è sua figlia lo perdonerà ora ecco forse il motivo per la quale anche il film mi è piaciuto tanto ma non amato è perché io allora la frase della verità che è la linfa vitale dell'amore è meravigliosa però io mi sarei fermata lì perché per come sono fatta io ecco io non ho l'idea del se siamo parenti se siamo della stessa famiglia ti perdono tutto ti perdono tutto ecco quindi lì io sono diversa da con forse anche questo che sinceramente questo è l'unico messaggio che proprio a me non è arrivato e anzi in quel caso ho detto vabbè poi magari era un messaggio che caratterizzava quel personaggio non era neanche troppo personale tra l'altro ci può stare infatti però sai per come finisce ti dà un po' l'idea che sia no che finisca comunque bene a un finale abbastanza beh si ritrovano anche poi il padre il padre poliziotto e la ragazza capire l'ultima scena di lei che dice a papà che anche qua non lo so poi magari potrebbe essere che dopo un anno si rimanderanno a quel paese oppure no non si sa però lascia presupporre che sia positivo ecco e forse è questo tra tutto che me l'ha fatto apprezzare meno generalmente questo tipo di retorica a me non arriva ecco tutto qui ma per il resto è un gran bel film io la stirpe della sirena forse la tua opere manga vabbè era una tra le opere prime che aveva fatto la prima cioè a parte qualche cosa di breve la prima a me è piaciuto un sacco quello davvero davvero tanto mi è piaciuto però vabbè tipo ecco ce l'ho qua opus lo dovrò leggere quello ma non so manco se c'è in versione italiane c'è c'è in inglese sì sì ci sono tutti usciti in italia però non si trova cioè si trovano pezzi molto alti sono tutti esauritissimi io fortunatamente ce li ho ma vabbè per me l'eredità dei sogni è proprio il massimo con i racconti brevi ce ne sono alcuni però se volete facciamo un'altra live poi con i manga di Satoshi io non posso parlare quando li avrà letto se no faccio parlare voi no 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 ma nel senso che comunque e se li ristampano volentieri se fanno una nuova edizione volentierissimo tranquillamente due ore di live si possono schioccare anche su quelli e quindi anche di più volendo sì davvero ragazzi ristampateli allora c'è Seraphim che è quello che fece con Mamoru Oshii poi loro hanno scazzato quando dovevano fare i film insieme e con voleva metterci troppo del suo e quindi Mamoru Oshii si era un po' infuriato e hanno litigato e quindi anche Seraphim purtroppo non è andato avanti e anche quello supervisionario vabbè già dal titolo Opus super mega narrativo meta narrativo dovrei rileggerlo perché mi ricordo poco l'ho letto anni e anni fa ma del tizio che entra dentro al suo manga una roba allucinante meta narrazione pura pure e poi ci sono vabbè le storie brevi le opere brevi che sono appunto nelle realtà dei sogni cioè sono alcune riuscite meglio alcune peggio ma in linea di massima le adoro quindi poi dai quando Martina le ha lette faremo la parte del con mangaka anche perché però poi si sono riappacificati i gosci perché hanno fatto insieme poi dopo i corti quelli di Anikuri quindi sì dopo ora non so se sono proprio se si sono riavvicinati come erano prima sicuramente si sono riappacificati a livello lavorativo hanno rifatto appunto quelle cose lì però prima c'era quasi un rapporto che si stava andando a saldare parecchio come quello con Otomo poi sono due personalità che sono venute molto in contrasto perché entrambi fortissime comunque cioè più che altro Oshin non voleva che Con ci mettesse di suo nella storia voleva che lui disegnasse e basta e Con non lo permette a disegnare e basta come se fosse un artigiano che ti fa i disegni capito che poi io paradossalmente tra le cose migliori di Con di sempre ci metto pure il corto che poi corto vabbè dura un minuto però il il mini corto che ha fatto per Anikuri 15 ma sai che non l'ho visto? Ohio l'ho visto su YouTube dura un minuto no l'avevo visto come si chiama? Ohio Good Morning sì 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 good morning l'avevo visto però mi sembra ora ti dico vedendo la copertina ed è vabbè là per fare un po' il sentimentalone cioè ed è è l'ultima roba che Con abbia mai fatto ed è adesso qua mi prendo la palma d'oro del dei feels però c'è il fatto che un artista che ha basato tutta la sua produzione di creazione sui sogni sull'incubo sulla percezione della realtà l'ultima cosa che abbia fatto in assoluto una sua carriera è una mini storia in cui c'è una ragazza che si sveglia secondo me di una poesia assoluta quasi commovente quindi è bella come cosa assolutamente assolutamente sì proprio lui la carriera effettivamente è basata sul sogno totalmente e qui c'è il risveglio di questa ragazza e si chiama buongiorno anche il titolo della vabbè è era era veramente meraviglioso veramente meraviglioso e oh siamo arrivati a paranoia agent ragazzi finalmente con fa una serie anche dopo tre film fa una serie e che serie ragazzi parte come una serie allora io adesso scusate ma vi devo prima fare una domanda è giusto per capire cioè dobbiamo analizzare tutte le puntate o ne parliamo in modo generico ditemi io farei una cosa generica allora dato che poi Gianluca mi ha detto che avevi tempo fino alle sette io alle sette circa devo devo scappare ragazzi quindi io starei a parlare di con le ore caso me facciamo una seconda parte ecco dico infatti facciamo una cosa generica poi se volete si fa lo spin off volentieri me la riguardo anche io magari tutta all'inizio e si gode e si gode e si fa la live anche su paranoia agent puntata per puntata vai paranoia agent al microscopio si vola ragazzi bellissimo il content quello bello bravo dicano che sono sempre a fare action io poi qui da due ore stiamo parlando di con ma la gente latita poi vanno a vedere le reaction però va bene gli stessi che dicono che faccio solo che faccio solo reaction va bene sempre così lasciamo stare anche perché sono alla fine 13 episodi dove si può vedere è su anime generation in questo momento altrimenti il blu ray penso che quello si trovi anche il dvd su amazon 990 in dvd l'ho preso ieri spendete gli sti 10 euro su chat fate i bravi spendete gli sti 10 euro e non rompete il cazzo praticamente una serie che si apre con un apparente caso di violenza di questo ragazzino che viene denominato shonen butt da shonen ragazzo butt che ha un duplice significato può essere il pipistrello in inglese ma anche la mazza da baseball in giapponese perché appunto lui colpisce con una mazza da baseball chi colpisce inizialmente una ragazza che è la creatrice di questa mascotte qui ritornano ancora le mascotte i pupazzi le bambole la mascotte che ha fatto un successo incredibile in giappone e che ha questi suoi colleghi che le stanno colfiato sul collo perché dovrebbe creare una nuova una nuova mascotte dopo insomma che quella precedente ha fatto il suo tempo e da qui parte una prima parte io lo divido in due parti per noi agent la prima beh tra mille virgolette è abbastanza semplice nel senso che ci sono questi agenti che insomma cercano di dipanare questo caso no? di sbrogliare la matassa di questo caso la seconda parte che è proprio completamente parte per un delirio totale puntata dopo puntata in quello che poi è una cosa di fuori diciamo si è divertito molto si è divertito molto però si è divertito tantissimo guardandole dragon quest una certa così proprio la sfada di rotom così proprio ed è una delle tante cose si si ogni puntata fa storia a sé poi di questa di questa serie ma secondo me poi nella seconda parte lui va a indagare parecchio 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 sulla sulla psicologia dei personaggi sul loro vissuto sul loro passato e li 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 sviscera completamente soprattutto vabbè quelli più vicini a Sean and Bat e alla protagonista della serie ma in generale tutti perché poi alla fine dai poliziotti a tutti gli altri ai colleghi di lavoro di di questa ragazza tutti vengono in qualche modo sviscerati sì e indagati a fondo quindi assolutamente eccezionale lui usa 13 puntate per parlare di 13 problemi enormi della società praticamente quindi cioè se io non so ve l'ho detto all'inizio puntata non ho letto non ho avuto il tempo poi effettivamente di informarmi oltre a vedere però sembrerebbe cioè la spettatrice che non gli bastava più il film cioè voleva fare quasi una sorta di 13 cortometraggi ma tutti messi nello stesso calderone era quasi ingabbiata nella durata del film magari eh sì per parlare sviscerare meglio certe tematiche c'è qua ragazzi davvero ora non lo dico per dire ma ogni episodio potremmo parlare per minuti interi c'è c'è l'episodio appunto dell'ansia da prestazione dell'aver fatto una mascotte Maromi che è diventata appunto praticamente il simbolo della felicità delle persone addirittura c'è questa cosa detta poi anche nella nella stessa serie c'è nella stessa serie anime vediamo che tutti hanno qualcosa di Maromi e quindi questo essere no un artista che è arrivato a fare costantemente sotto pressione e ora ti chiedono altro esatto c'è c'è l'ansia la prestazione di essere il primo della classe nel secondo episodio mi pare del bambino che viene però pensano che saluzione e imbatte e quindi dall'essere il primo della classe diventa il primo sospettato e da lì lui secondo me anche lì c'è una una spolverata di tema sull'Ikiko Mori perché vediamo proprio il bambino che è in casa in camera sua che si sta vedendo a voglia che si sta vedendo i filmini di quando lui era il migliore della classe che noi inizialmente pensiamo che lui stia vivendo quelle cose e che quindi nessuno ce l'abbia più con lui in realtà poi la telecamera va indietro vediamo che no lui si sta guardando delle cassette con la mamma che bussa e lui si mette sotto le coperte che non vuole più andare a scuola quindi l'accenno no del dell'Ikiko Mori cioè banalmente che ne so potrebbe essere lui il bambino che poi è diventato lo stalk lo stalk la pressione della famiglia la pressione giapponese la prestazione la produttività la yakuza la yakuza voglia anche lì del genitore del padre che non riesce ad essere il padre perfetto come vuole lui e che da poliziotto che è deve arrivare al punto di andare a rubare perché deve trovare sempre molti più soldi ad andare alla yakuza e lì c'è anche una cosa del fatto che lui pensa che appunto si possa comprare la felicità in qualche modo secondo me anche quello con la casa esatto ora io vi dico come come il filruso c'è questo c'è tutte le le mille sfaccettature dell'imprescrutabilità della società della mente umana delle paranoie esatto le ansie sociali psicologiche economiche c'è una quantità anche dei videogames io quella di dragon quest di lui che sarebbe il presunto shonen bat che la vive come fosse un jrpg geniale no ma era ma che cazzo è dragon quest questa roba ma in che senso assurdo e facendolo ci fa godere anche proprio dell'estetica delle animazioni sì 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 per quello dico che si è divertito tantissimo ecco secondo me c'è una vera e propria isteria della città perché shonen bat fondamentalmente non esiste cioè nel senso io sono arrivata a questa conclusione in realtà già dai primissimi episodi già nel primo episodio devo dire che mi ero appuntata dicendo secondo me la bambina mente ha vissuto qualcosa da piccola molto probabilmente no che sentivo già quella cosa del treno dei binari e mi pareva un po' troppo strana come si è sì sì però c'è una vera e propria isteria ci sono casi di città in cui se tutti hanno la febbre a una certa tutta la città cioè se tre o quattro hanno la febbre tutta la città l'isteria di massa è una cosa reale l'isteria di massa di questo parlano sì 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 e di come shonen bat vada dalle persone imparanoiate infatti è come può essere anche una rappresentazione un po' del peggio di tutti noi magari messi insieme shonen bat anche quasi allucinazione collettiva esatto che è un po' come uzumaki secondo me mi ha un po' fatto pensare a uzumaki davvero sì 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 è vero perché succede quello che ti porta soprattutto la paranoia la paura dello sconosciuto anche perché poi questo si vede quando le signore del condominio iniziano a parlare tra di loro che veramente spettegolano e ognuna di loro inventa una storia inventa una storia sempre più inverosimile dell'altra poi c'è quella ragazza che alla fine prova a dire la sua no ma dopo la tua non è verosimile quando avevano detto le peggio cose e alla fine lei è tipo contenta perché cosa succede che al marito è stato aggredito da shonen bat il marito è stato aggredito da shonen bat lei entra in casa lo vede dice sì finalmente avrò anch'io la mia storia da raccontare perché tutto l'episodio è le donne che spettegolano e poi la sequenza di quello che hanno appena detto poi di nuovo loro spettegolano c'è la sequenza è un ping pong così con lei che nemmeno soccorre il marito ma quello che gli dice in punto di morte è muoviti e dimmi che cos'è successo dammi la mia storia esatto esatto ma quelli che si vogliono la corsa alla notiziabilità comunque veramente sarebbe da parlare due ore solo di episodio per episodio perché ha una quantità di tematiche anche perché ogni puntata ha delle caratteristiche proprie capite quello è il bello quando parla del mondo dell'animazione no no in calendario Maui molto volentieri molto volentieri però Martina stava aggiungendo qualcosa sono sicuro spero no la mia scena non so se è proprio la mia preferita però è una di quelle che mi ha colpito di più praticamente c'è non mi ricordo i nomi come sempre comunque la moglie del del poliziotto dovrebbe essere l'undicesimo episodio uno degli ultimi comunque che praticamente sta arrivando Shonenbat da lei e però Shonenbat è tipo non riesce a colpirla perché lei non è più imparanoiata cioè lei lo era prima e quindi lui stava per ma poi lei riesce a capire e far pace con se stessa e col suo passato e lì una cosa meravigliosa è che praticamente c'è una distesa di giglio di fiori che è il giglio ragno rosso che è quello tutto si vede spesso negli anime in realtà i petali rossi si praticamente quello è il fiore simbolo di morte si mette sulle tombe delle persone praticamente e in pratica quando Shonenbat sta per colpirla diventa enorme Shonenbat e la distesa di gigli rossi diventa immensa solo che poi lei scoppia in una risata e i fiori spariscono all'istante perché lei effettivamente non sta più per morire a causa è intoccabile per quella cosa lì perché lei ormai non ha più quell'ansia non ha più quelle preoccupazioni quindi è intoccabile da parte di Shonenbat no è assurdo quando volete la facciamo perché davvero dai dai facciamola facciamola ho scritto tante di quelle cose guarda se dopo te le dieci le mando no ragazzi vi giuro sono un botto davvero un paper un paper universitario sono d'accordo sul fatto che meriti l'approfondimento perché non è una serie normale è quello ci si poteva aspettare essendo Satoshi Kon però proprio nel senso che ogni puntata fa storia a sé per quanto ci sia comunque questa trama orizzontale ma più che trama orizzontale secondo me è proprio un messaggio orizzontale che c'è nell'opera però va analizzata puntata per puntata cioè solo sulla puntata che parla del mondo dell'animazione ci si può fare una live solo su quella voglio dire che ti spiega tutti i ruoli all'interno del mondo dell'animazione è assurdo coi bozzetti capito cioè è una roba allucinante no davvero è assurdo facciamolo dai ora chiudiamo con quello che purtroppo è l'ultimo film di Satoshi Kon che è appunto Paprika perché è l'ultimo che è riuscito a lasciarci prima di di morire appunto graficamente forse qui raggiungiamo effettivamente il picco probabilmente perché insomma è stupendo sia a livello di animazione che di disegni veri e propri secondo me qui arriviamo arriviamo a livello allucinante e anche la storia è molto molto bella che poi si diceva prima che Kon ha sempre parlato di sogni e qui il sogno è totalmente protagonista perché c'è questa invenzione che insomma riesce invenzione che poi è ancora in fase abbastanza embrionale sperimentale che permette alle persone di riuscire a vedere i sogni degli altri e che quindi porta di conseguenza mille domande a livello a livello etico a livello morale perché mamma mia per quanto chi è che non abbia chi è che non ha mai sognato di poter fare una cosa del genere sui propri sogni o anche su quelli degli altri però quanto sarebbe invasione della privacy quanto sarebbe comunque un andare a indagare nella personalità delle altre persone che effettivamente non esternandolo di per sé è un qualcosa che forse non vorrebbero far vedere quindi anche qui secondo me c'è una critica sociale che però viene molto portata su una cosa futuristica e futuribile poi ovvero appunto questa questa invenzione che fanno all'interno del film che poi Paprika è un'intelligenza artificiale a tutti gli effetti quindi anche qua che è vent'anni fa ha anticipato questa cosa ed è assurdo oppure questo di come sia avanti anni luce io vi faccio una domanda cioè se secondo voi ha senso come l'ho interpretato io oppure no sapete che c'è il poliziotto no? vediamo tutta la storia di sto poliziotto vabbè che lui fa fatica non riesce a trovare il colpevole di quell'omicidio e quindi vediamo i suoi sogni è quello che lo ossessiona Olli esatto per poi arrivare a scoprire la sua storia ovvero che lui voleva girare un film col fratello insomma e non riesce più ad entrare al cinema e la proprio la fine di Paprika c'è lui intanto vabbè adoro che la scena ambientata i cartelloni i cartelloni che vede no? che c'è Tokyo Godfather Perfect Blue e Millennium Actress lui va lì e dice un biglietto quindi ci fa capire che lui è tornato ha risolto il suo trauma ora io l'ho interpretata così però ripeto non conoscendo Con non so se è una cazzata potrebbe essere che Con con questo film avesse paura a continuare a farne un altro e magari la paura di questo poliziotto di entrare al cinema e vedere proiettato un film potrebbe essere stata la paura di Con di continuare a fare film magari con la paura di non sapere più che cosa dire o altro cioè però io non lo so da quello che so io non credo perché lui è stato l'ultimo quindi eh purtroppo si vuole fare un altro lui c'era un altro che era già in produzione quando è morto poi Dreaming Machine però da Paprika quello cioè secondo perché io ho interpretato che il biglietto che quel poliziotto ha preso per dire un biglietto dato che c'erano gli altri film di Con quel biglietto che lui prende per la prima del film nuovo che sarebbe uscito di Con quindi che lui supera la paura poi del fare questo non so se magari lui ha mai avuto quest'ansia che magari ha messo in paprika da quello che so io era molto entusiasta lui del suo lavoro quindi non so se aveva questa cosa che poi magari accomuna anche tanti altri artisti però se tu leggi la sua lettera da Dio per esempio lui sembra quasi più dispiaciuto di morire sembra quasi più dispiaciuto di morire per non riuscire a portare avanti il suo lavoro quindi non so quanto magari in quel momento poteva avere anche delle ansie rivolte ai suoi lavori successivi potrebbe tranquillamente essere che in qualche modo paprika potrebbe anche sembrare una summa anche anche esso come film perché comunque stiamo dicendo da due ore un autore che ha come tematica principale forse il sogno e qui ovviamente è proprio il film che rappresenta meglio questa ossessione quasi in qualche modo per il sogno quindi secondo me l'interpretazione che hai dato ci sta comunque per magari un'ansia che aveva lui potrebbe essere però anche la funzione salvifica del cinema secondo me cioè lui del cinema ne ha sempre parlato l'ha sempre amato e ha sempre amato farlo e secondo me questo è un po' il filerucci di tutta la sua la sua produzione perché nonostante abbia fatto tante cose diverse dal manga cartaceo all'animazione tra la fine lui ha degli stilemi di riconoscibilità che lui tra l'altro essenzialmente vuole fare il pittore vuole fare i film dal vero quindi alla fine dell'animazione c'è un po' cascato però alla fine è riuscito a mettere dentro l'animazione degli stilemi che sono tipici del cinema dal vero sì però è straordinario il fatto che secondo me è riuscito a creare un tipo di linguaggio che è veramente autoriale riconoscibile che si appartiene al cinema in carne e ossa dal vero ma che non avrebbe mai potuto ottenere se non fosse finito poi nell'animazione perché alla fine lui riesce a trovare una casi pazzesca tra un tipo di narrazione un tipo di messa in scena un tipo di anche maturità narrativa che si che fa riferimento tanto a un tipo di cinema autoriale poi io sono un enorme amante dell'animazione quindi non è per sminuire assolutamente no 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 un tipo di linguaggio proprio che è tipico del cinema con persone in carne e ossa ma lui riesce a trasformarle a traslarle nel cinema animazione ma con un effetto unico cioè è Paprika appunto che nella garovana finale che è proprio la massima espressione del sogno la parata finale cioè Inception che è il primo film che viene in mente si parla di sogni e alla fine il paragone è inevitabile oltre per l'immaginario che ha delle similarità proprio di estetica delle trovate narrative però quello che si riesce a tenere con l'animazione e il senso di straniamento e i mille mille elementi su schermo e ecco in Paprika la roba assurda è il montaggio il montaggio fa tutti i film ci sono delle cose che non vedi da nessun altro a cazzo di parte è una roba totalmente folle però te quella roba la puoi ottenere solo con l'animazione solo con l'animazione sai che pensavo alla stessa cosa quando lo vedevo cioè della libertà che ti lascia l'animazione che comunque io non non credo che con degli attori anche il regista più bravo del mondo non penso che puoi fare delle sequenze così soprattutto con quel budget lì anche puoi fare tutto poi ovviamente richiedere dei budget altissimi anche l'animazione se vuoi ottenerla a questo livello qua però è come un fumetto nel fumetto alla fine c'è una penna e la carta puoi fare quello che vuoi quello che ti pare e l'animazione è più o meno la stessa cosa io amo paprika per il fatto che cioè vabbè io dico che lo butterai giù dalla torre in un'ipotetica scelta con la pistola alla testa sempre rispetto lo vedo come un enorme punto esclamativo a un discorso che aveva già fatto in paranoia agent dal punto di vista proprio di summa dei temi però amo il fatto che alla fine paprika è stato il film che di più ha portato a un riconoscimento dell'autorialità di con perché è stato il film che è stato in concorso a Venezia quindi già là è stato bellissimo era nel non mi ricordo era la sessantatresima edizione me lo sono appuntato in fine anni 2000 nel 2007 8 beh il film è del 2006 mi pare ho letto prima e la cosa bellissima ancora più poetica che ho letto documentandomi per questa live qua che quell'anno la Venezia è stato dato il leone d'oro alla carriera a Lynch è una cosa poetica totale la chiesura del cerchio finisce il concorso Satoshi Kon con paprika quindi proprio il mondo del cinema occidentale che riconosce il talento di Kon ed è l'anno in cui Lynch è stato dato il leone alla carriera secondo me è una poesia e sapendo poi che è l'ultimo film di Kon senza pari e tra l'altro se non fosse morto secondo me lui così giovane oggi ne parleremo come un mia meno che di mia zaki perché i film comunque sono molto più più difficili però quasi visto come si sta aprendo il pubblico guarda che Intas ha fatto Perfect Blue ce l'hanno riportato un altro giorno se pensiamo a quanto ci ha messo a quanto ci ha messo Miyazaki per venire fuori che comunque ci ha messo 20 anni e passa anche Kon a una certa sarebbe arrivato ora certo può arrivarci come riscoperta quella che stiamo facendo anche noi parlando in questa live con il film al cinema è veramente incredibile veramente meraviglioso io vorrei vedere non so se siete di quest'idea anche voi quello che è stato girato dell'ultimo film lo vorrei che lo facessero uscire così anche senza conclusione anche proprio senza montaggio quello che c'è sarebbe interessante assolutamente tra l'altro volevo aggiungere giusto una cosa Gianluca tu hai detto che per te paprika è un po' un punto escamativo a tutto quello che lui ha fatto ma effettivamente paprika è la spezia no? perché anche nel film citano questa cosa che io ho amato lo dicono proprio e quindi potrebbe essere la spezia del suo piatto già preparato che era tutto il resto è vero bellissimo ripensando ripensando al finale poi lì anche c'è una bella un bel messaggio secondo me sulla purezza dell'amore che deve andare oltre oltre i canoni estetici oltre a quello che è la fisicità cioè l'amore deve essere amore fondamentalmente ti dice quello quindi anche quello è un bel messaggio il finale bellissimo secondo me Con avrebbe sul classato Miyazaki no sul classato non credo è Cosmico Miyazaki è molto più popolare mainstream comunque a livello di cinema però sarebbe arrivato vicino dicevi Gianluca scusami e poi come diceva Martina non mi aspettavo minimamente il fatto che comunque anche adesso nella proiezione che c'è stata al cinema che anche io vedevo per la prima volta al cinema perché gli altri film di con a liceo me li ero arrabbattati VHS non si trovavano in maniera come quelli di Miyazaki quando no dieci anni fa dodici era difficile non c'erano nemmeno i diputti di Miyazaki però alla fine è pure il successo che c'è stato del ragazzo dell'erone cioè lì c'è chiaramente il brand Ghibli che fa tanto però ricordiamoci che Con ha finito nel 2008 2010 2009 no lui è morto nel 2010 e nel 2010 ragazzi pure in occidente in Italia lo studio Ghibli non è che fosse no no assolutamente quindi magari la meta e quando l'ho scoperto io nel 2010 più o meno era quell'anno lì perché ricordo che avevo iniziato le superiori forse quell'anno comunque 2009 2010 perché passavano la città incantata no forse anche qualche anno prima vabbè sti cazzi perché avevamo passato la città incantata su Sky Cinema ma perché aveva vinto l'Oscar l'ha vinto nel 2002 il periodo era quello qualche anno l'avrò scoperto nel 2006 2007 poi quello che è successo è che non sapevo che film fosse perché non ci avevo prestato attenzione vabbè magari un giorno Gianluca ti racconterò era durante una scena di Natale qualcosa del genere no mia mamma stava facendo sto banchetto ogni tanto a casa li faceva aveva lasciato la televisione accesa da sfondo per compagnie passavano la città incantata io avevo dieci anni penso quindi sarà stato sì 2005 rimango incantata e passo gli altri miei anni a non sapere che cosa avessi visto fino alle superiori in cui in prima superiore dico questa cosa a un mio amico lui dopo un po' viene e mi dice mi sa che ho capito di che film parli e mi fa vedere il castello errante di Aul perché io gli dico di questa donnona con il nasone grosso e una roba nera che vomitava nero guardo il castello errante di Aul e dico non è questo però me lo ricordo guardo la città incantata e ho detto non ci credo l'ho trovato e sta roba io l'ho fatta che l'ho ho visto Miyazaki quindi conscia che fosse lui 2011 2012 tanti film non potevo vederli perché diciamo c'erano manco in streaming c'erano c'è Nausica no ma a parte lo streaming non c'erano neanche non c'erano neanche in un video tantissimo no no perché nel 2014 Lucky Red ha buttato fuori i film che a me pareva un sogno andare al Media World e trovare i DVD degli altri e non solo se ad oggi la Madhouse che è la casa di produzione dove lavorava Con se avesse continuato con una produttività di quel tipo Modiaria ad oggi sarebbe allo stesso modo si anche perché ha fatto ha fatto tante cose fighe certo però Madhouse ha fatto la roba di Kawagiri per esempio che è tanta roba diciamo che Ghibli lato lato identità è solido molto più solito a Cann abbiamo dato il leone alla carriera che è un premio che si dà alle persone l'abbiamo data a uno studio quella è una roba c'è una dichiarazione forte cioè come se tu attribuisci una una visione unica a uno studio cioè tanto grossa come 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 testimonianza la Madhouse non so se avrebbe avuto lo stesso lo stesso impatto però ma magari non uguale ma di sicuro ma di sicuro qualcosa cioè sarebbe arrivato a tanti perché poi anche lì se guardiamo lo studio Ghibli comunque secondo me sì questo leone cioè questo premio è stato più per Miyazaki perché comunque anche le opere di Takata sono riconoscibili ascrivibili allo studio Ghibli ma molto diverse già come identità ognuna ha un'identità diversa molto di più rispetto a quelle di Miyazaki quelle di Miyazaki si riconoscono tutte quelle di Takata si riconoscono da fan di Takata ma un occhio esterno magari perché lui amava sperimentare ogni film è diverso a differenza di Miyazaki esatto lui piaceva ogni film fare qualcosa di diverso vediamo anche poi per l'ultimo c'è il testamento poi che ha lasciato che è un film completamente diverso da tutto il resto no? sì eccezionale però arriverà anche questo momento di Takata sì 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 faremo una bella live su Takata assolutamente secondo me il momento è giusto proprio quello poco prima dell'uscita al cinema dei suoi film perché insomma sì volentieri ci sta quella scusa me li riguardo come diceva Gianluca che non c'è mai tempo almeno quella scusa mi riguardo pure le cose di Takata è sempre la scusa giusta per riguardarseli a parte la tomba delle lucce che è strano la maggior parte delle persone dicono io non riesco a riguardarlo non riesco a riguardarlo tra una cosa e l'altra mi sa che è il film di Takata che ho visto più volte io sì pure io e non perché sia sadico però è successo così effettivamente sì sì pure io l'ho visto tante volte anche quello però godo go quello è il mio film preferito dello studio Ghibli la principessa splendente oppure c'è anche il mio c'è anche il mio una roba eccezionale ma ne parleremo in un'altra live come parleremo in un'altra live ma anche di Paranoia Agent al microscopio ragazzi io non so che si può fare ma è su youtube in realtà good morning ah lo vogliamo far vedere ma se ci lo vediamo insieme dai sì mi prego un minuto dai allora vediamo un attimino spero che si senta anche l'audio non sono sicuro proviamo hai attaccato i cavi ma io lo sento quindi dovete sentirlo anche voi aspetta che lo metto direttamente faccio il condividi schermo diciamo così così è venuta questa idea che stura sì mi piace ma no ma ci state un minuto poi nel senso ditemi se lo sentite sì alza un po' no è già ammasso è ammasso no no si sente alza un po' che bello no vabbè cioè qua sarebbe da mettere in pausa ogni frame per vedere nello sfondo tutte le cose che ha disegnato inserito anche qui riprende molte delle sue cose quello che diceva Martina la stanza un po' incasinata e opprimente ma poi sembra che si sveglia prima una parte di lei e poi l'altra quello che mi viene da pensare è chissà che cosa ha fatto la sera prima chissà perché stava così ti può far pensare ad esempio al fatto che magari quando uno si sveglia è ancora un po' addormentato potrebbe essere una metafora di questa cosa ma veramente ti fa capire che in un minuto veramente in un minuto si 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 è ancora un po' addormentato è quasi una ritualità nella quotidianità e poi il fatto che alla fine l'ultima parola che c'è in un film di con è buongiorno quasi come se fosse un saluto è un risveglio un po' inconsapevolmente che come se lui desse un saluto al pubblico tipo prima di di andarsene buongiorno vuoi dire ok il sogno è finito adesso cioè è veramente una roba poetica al massimo che mette un po' i brividi devo dire quindi incredibile si davvero mi è venuta la bella doc no veramente stupendo veramente veramente stupendo poi un minuto fatto anche ad una qualità tecnica incredibile disegni bellissimi va bene va bene va bene è stupendo ragazzi ci rivedremo sicuramente per la live su Paranoia e agenti intanto ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito poi la live la ricaricheremo anche su youtube per chi vuole recuperarsi naturalmente ringrazio Gianluca ringrazio Martina sempre disegni grazie a te e preparatissimi soprattutto veramente secondo me è venuto un piccolo gioiellino di live due ore belle pregne proprio ce n'è di roba molto bello ragazzi si vede che ci piace si vede che ci piace è la cosa che appare maggiormente quindi vi ringrazio ragazzuoli noi ci vediamo non sabato ma domenica perché sabato mi sa che non ci sono e domani neanche perché vado a vedere subsonica a Livorno un po' di riposino un po' di relax questo fine settimana ci sta e quindi ci vediamo domenica per la giornata reaction grazie a tutti e buona serata un bacione a presto ciao ciao ok termina la diretta